Possiamo cominciare i lavori di questa seconda giornata, quindi buongiorno a tutti. Ieri ho iniziato appunto con un intenso dibattito, soprattutto diciamo contributo di posizioni diverse, diverse per provenienza sia accademica sia di disciplina, sia di magistratura, sia di avvocatura. L'esame dell'esperienza del giudice di pace e oggi è mio compito presiedere questa seconda sezione in cui vedremo più da vicino la riforma, direi quasi passo passo il progetto di riforma e il disegno di legge delega che tutti conosciamo. Mi è intanzitutto doveroso e gradito ringraziare gli organizzatori, gli amici trentini che mi vogliono ancora in questa sede, per me è cara, dove sono stato tanti anni. E sono stato proprio nel periodo di entrata in vigore del decreto legislativo 274 del 2000, che poi è entrato in vigore con qualche slittamento nel primo gennaio 2002. E io ero qui dal 95 al 2004 come professore ordinario di diritto penale, appunto fui contattato dalla infaticabile dottoressa Stassinari, di riprendere quell'esperienza che era iniziata per vero, io tra i molti volumi che mi sono portato e rivisto, ho questo a cui non avevo partecipato perché erano gli atti del convegno di Novacella del 99 in cui c'era la previsione della legge delega per la competenza penale del giudice di pace che era stata rinviata molte volte precedentemente per la forte opposizione dell'avvocatura ma anche l'incertezza delle scelte legislative di quel momento, mentre il giudice di pace civile già funzionava da tempo, e appunto c'era solo un preannuncio di quella che sarebbe stata l'entrata in vigore con la legge delega della competenza penale. E però appunto, come sempre, la Regione Trentino Alto Adige che aveva questa specifica competenza salutare era in anticipo e in anticipo è subito emanato il decreto legislativo, prima ancora che entrasse in vigore, organizziamo un primo convegno importante di cui ho portato il volume, che fu edito pochi mesi dopo con grande tempestività, che si intitolava verso una giustizia penale conciliativa, il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace. Cioè c'era un grande entusiasmo in quel momento, io e il professor Spanger diciamo un po' è responsabile per la procedura penale, ma c'era un'interazione veramente molto stretta come del resto anche oggi, e questo forse è appunto un filo rosso che unisce tutti questi anni di esperienza sul giudice di pace con la Regione e con le associazioni di giudice di pace che erano presenti fin da allora giustamente, essendo i soggetti poi della riforma. E devo dire allora c'era un grandissimo entusiasmo perché c'era una promessa, una promessa di grande stacco del modello, appunto del volto della giustizia del giudice di pace in materia penale rispetto a quelle ordinarie. In effetti il legislatore si era impegnato fortemente anche nella relazione di accompagnamento del decreto legislativo, stesa tra l'altro da ottorevoli penalisti come Padovani, di presentare una giustizia penale più vicina al cittadino, più vicina alla vittima, superare l'ineffettività della giustizia ordinaria nel campo dei reati diciamo legati alla microconflittualità interpersonale, le ingiurie, i danneggiamenti, le minacce lievi, eccetera, eccetera, anche le lezioni personali, le percorse, le lezioni personali non gravi, sappiamo già insieme a questa competenza, e si diceva il fine primo primario da perseguire alla conciliazione, quindi poi gli strumenti di mediazione che forse solo in Trentino si sono presi sul serio formando dei mediatori, altrimenti è ovvio che non può partire la mediazione, la prospettiva della giustizia riparatrice, sembrava questo il fine primario effettivamente, in quel primo convegno si era posto l'accento su questo profilo di novità, però, devo dire, riguardando poi appunto la storia degli altri due convegni, che già in quello si preannunciava, non eravamo così ingenui da crederci fino in fondo, cioè che fosse veramente un cambio così radicale, perché purtroppo, devo dire, questo è l'aspetto che non ha poi realmente funzionato, insomma, cioè, c'è una percentuale molto bassa, ma soprattutto c'è una difficoltà a gestire realmente, nell'ambito del processo giudice di pace, un compito di conciliazione che deve avere una forte, come dire, pressione sulle parti a conciliare, che può derivare dalla minaccia di sanzioni più gravi, probabilmente, e soprattutto una grossa struttura organizzativa, impegno anche finanziario, di competenze professionali ad hoc, evidentemente non si può improvvisare, non si può fare a costo zero una riforma di questo genere, insomma. Però, dicevo, non eravamo così ingenui, perché infatti già avevamo pensato fin da allora, e poi abbiamo realizzato nel 2002 appunto l'incontro sulle pene, sui aspetti sanzinatori reali, concretamente applicabili, sui reati che venivano in riferimento, e poi l'ultimo fu sulla discrezionalità, contenuti limiti della discrezionalità dei giudici di pace, cioè in realtà, nella materia penale, in realtà appunto il contenuto effettivo della giurisdizione, insomma, cioè l'idea del fine primario conciliativo, chiaramente col tempo si è dimostrato, non da abbandonare per carità, anzi, il resto è un obiettivo che va rivitalizzato, a mio avviso, perché quella sarebbe la vera deflazione, cioè la vera deflazione dovrebbe perseguirsi sul fatto che le parti sono soddisfatte, diciamo, della composizione del conflitto. Questo è da un punto di vista anche degli studi sociologici, nelle esperienze straniere in cui funziona veramente, è il dato più importante, cioè la vera pacificazione che può portare il diritto applicato alla giustizia è quella di soddisfare le parti, quando invece resta una sentenza di condanna, una insoddisfazione della vittima, una insoddisfazione dell'imputato, chiaramente questo obiettivo è molto molto più lontano, la funzione educativa della pena è un'altra cosa, cioè solo sulle pene lunghe, eccetera. Comunque, in ogni caso, questo è un capitolo che non viene, direi, assolutamente, significativamente, purtroppo, devo dire, toccato da questo progetto di legge, cioè è completamente abbandonata sostanzialmente questa specificità della giustizia penale, o parla della giustizia penale del giudice di pace, ma anche nell'ambito civile, insomma tutto si è dislocato in procedura di mediazione strana, diciamo, al processo precedente, a mio avviso con pochissimo effetto pratico, mi pare più un adempimento, questa è un'impressione che do senza aver studiato l'argomento, premetto perché non è la mia competenza, un adempimento burocratico di direttive, di obblighi che ci derivano anche da fonte sovranazionale, che un'effettiva struttura capace di incidere sulla giurisdizione civile. Comunque, chiudo questa parentesi, nel penale, insomma, questo decreto legislativo non dice una parola sulle strutture di mediazione, sul rivedere i meccanismi di conciliazione, eccetera, eccetera. Anzi, assorbe, e mi dispiace appunto che oggi non ci possa essere per impedimenti parlamentari il relatore, lui che avrebbe dovuto fare un'illustrazione della legge, evidentemente che io cercherò solo di riassumere, perché Cucca è impegnato a Roma per il prolungamento di obblighi parlamentari, però diciamo in questa legge, la prima annotazione che vorrei dare, in questo reggio di legge che appunto si riporta nell'ambito della giustizia ordinaria, cioè è magistratura onoraria, ma perlomeno per il penale è veramente assimilata come funzioni, come compiti, come sistema disciplinare alla giustizia ordinaria, non ovviamente come stipendi, come carriera, come accessi, però diciamo c'è un'assimilazione, la tendenza è questa, insomma assimilarla, integrarla, integrarla nel meccanismo giusto, che può essere anche una scelta di razionalità, io non sono contrario, ne prendo atto, prendiamo atto che il compito, cioè quello che sembrava, un microsistema penale, processuale penale ad hoc, con sanzioni ad hoc, con meccanismi conciliativi da privilegiare, eccetera, in realtà come microsistema non ha funzionato tanto, è stato più che altro un sistema minore di giustizia penale, non un microsistema autonomo realmente dal punto di vista, ripeto, degli obiettivi, delle metodologie e quant'altro, però comunque ha funzionato, non c'è dubbio, tant'è vero che viene mantenuto, ma viene integrato tendenzialmente, viene integrato tendenzialmente nella giustizia ordinaria, e il segno più tangibile è il fatto che fra le tre norme immediatamente operative della legge di delega, che sono gli articoli 4, 5 e 6, appunto, la più, diciamo, operativa dal punto di vista proprio della prassi quotidiana è quella che affida il coordinamento al Presidente del Tribunale, e questo è il segno dell'integrazione piena, diciamo, della giustizia onoraria nella giustizia ordinaria, mentre sul versante del penale si aggiunge, non si sostituisce, si aggiunge l'integrazione della Procura, cioè, qui non erano i giudici di pace, erano i VPO che vengono inseriti nell'ufficio presso la Procura, no? Anche questa può essere una scelta razionale, voglio dire, non discuto, però sicuramente l'abbandono di quel modello alternativo, di quel microsistema che si pensava invece fosse stato inaugurato dalla legge del 2000, ecco, questo mi pare che sia un bilancio che si possa già dare, insomma, per lo meno per l'esperienza che c'è stata in questi anni. Quindi, un primo punto è senz'altro questo, diciamo, da un punto di vista sistematico. In questa prospettiva, diciamo, guida, è chiaro che si inserisce un regime di incompatibilità più rigoroso, benvenga, anche questo è immediatamente operativo, è l'articolo 4, anzi, a mio avviso, non è neanche ancora abbastanza rigoroso perché non si tratta solo di una questione di trasparenza, c'è una questione anche di terzietà, io come ho fatto alcuni appunti critici, l'articolo 4 certamente stabilisce delle condizioni di incompatibilità abbastanza pregnanti, soprattutto mi pare significativa quella non solo del divieto di esercizio, cioè fermo il principio, fermo il principio, che deve essere compatibile l'attività giudice di pace con altre attività perché altrimenti non si giustificherebbe il regime anche economico ridotto, diciamo, a tempo parziale, diciamo così, del giudice di pace, E quindi deve essere compatibile, non sarebbe più se no magistratura onoraria, insomma, quella giudice di pace se fosse incompatibile con altre attività professionali e quant'altro, però l'incompatibilità con le funzioni di avvocato, ecco, si estende non solo diciamo all'ufficio ma anche al circondario in cui si svolge l'attività anche esterna alla sede e anche rispetto agli studi associati, ai soci, ai società professionali, oltre che alla parentela diciamo più stretta per certi aspetti, questa è abbastanza stretta, forse anche troppo, c'è solo secondo grado per i parenti e primo grado per gli affini, perché il principio di terzietà secondo me, ecco, dice, la legge mi ha colpito un po', assicurare in massimo grado la terzietà, come in massimo grado, assicurare la terzietà, appunto, cioè c'è una graduatoria di terzietà e noi insomma tendiamo al massimo, sembrerebbe dire, sarebbe un po' una terzietà tendenziale, temo, e questo secondo me è uno degli aspetti veramente delicati che, per esempio, faccio un altro riferimento che mi lascia insoddisfatto, mentre rispetto ai partiti politici e ai sindacati si richiede che non ci sia stata esercizio, diciamo, appartenenza e l'articolo, se mi aiutate da mostrare, guardate, anche io faccio un po' prima lettura, l'articolo 4, guardavo la lettera, la lettera, ecco, l'articolo 4, va bene, ecco, la lettera C, ecco, la lettera C, coloro che ricoprono o hanno ricoperto in serie precedenti la domanda di incarichi direttivi esecutivi nei partiti politici e nei sindacali maggiormente rappresentative però soltanto, le altre invece non contano, e poi però nella lettera E quando si parla dell'attività per conto di imprese e di assicurazione bancaria o altri istituti eccetera eccetera, società, intermediazione finanziaria e così via, qua non si richiede nei tre anni precedenti che non svolgono attualmente, cioè solo contemporaneamente, questo mi sembra una grossa lacuna e anche un'incongruenza perché il condizionamento che può esserci soprattutto perché c'è la voce che a volte sento ma l'iniziosamente circolare che appunto funzionari di assicurazione di banca eccetera ma deve fare il giudice di pace e ovviamente in consecuzione possono perché non svolgono più attualmente quelle funzioni e però perché non c'è il limite dei tre anni precedenti e allora che c'è per i partiti e per i sindacati che si ritiene che ci voglia uno stacco temporale anche, questo direi che è un punto che andrebbe approfondito senza altro come anche ripeto rispetto all'attività degli avvocati che questa è delicatissima come possibile conflitto di interessi si dice giustamente non possono esercitare nel circondario del tribunale dove esercita la professione forense e va bene si estende appunto anche rispetto alle società professionali eccetera al circondario in cui esercitano questa attività professionale però solo se non è individuale l'attività cioè il comma 2 ho cercato di capirlo faccio una prima lettura con voi perché me lo sono guardato così da supplenze del relatore nel comma 2 articolo 4 mentre appunto gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito società associazioni professioniste eccetera eccetera non possono esercitare le funzioni giudici pace nel circondario del tribunale nel quale la società e l'associazione forniscono i propri servizi ma l'avvocato individuale invece potrebbe penso di sì cioè se io voglio dire come avvocato individuale che ho la sede in Verona faccio il giudice di pace a Verona e non posso esercitare a Verona se faccio il giudice di pace a Trento come ovviamente dovrei fare però ripeto ma mantengo la mia sede in Verona non capisco bene cioè se io posso andare nei professionisti con la società c'è un limite maggiore insomma che nell'attività individuale qui vorrei un momento capirci meglio ma ho l'impressione che ci sia una simmetria in questo ci sia una simmetria perché secondo me appunto è importante non solo la sede in cui si svolge l'attività e il circondario quindi l'incompatibilità di essere tutto il circondario non solo della sede dell'ufficio e non solo della sede dell'avvocato ma anche quello in cui si esercita o si esercitava abitualmente si prestano i servizi perché si prestano i servizi anche al di fuori della sede di appartenenza non credo che si debba limitarci sulle società professionali comunque anche questo è un punto io ritengo che sul punto della terzietà insomma non si possa scherzare deve essere non la massima ma deve essere assoluta cioè la terzietà e punto aspetti importanti sono poi quelli che riguardano la formazione anche qui abbiamo una norma immediatamente operativa che è l'articolo 6 e questo mi sembra un discorso importante nella logica che dicevo prima dell'integrazione o assimilazione nell'ambito delle strutture giudiziarie ordinarie perché primo la partecipazione nei riunimenti trimestrali introdotte dalla riforma dell'ordinamento giudiziario per esame delle questioni giuridiche più rilevanti discussione delle soluzioni adottate scambio di esperienze giurisprudenziali e prassi innovative con i magistrati professionali ordinari e queste sono riunioni trimestrali che effettivamente sono significative e questo vale anche per il vice procuratore non orario nell'ambito della procura è lo stesso schermo in più costi di formazione decentrata con cadenza meno semestrale specificamente dedicati ai giudici di pace qui l'unica incongruenza è che però il costo è zero cioè ho guardato rapidamente le norme finanziarie siccome deve essere l'invarianza finanziaria non viene aumentato di un euro il budget della scuola superiore della magistratura perché deve fare con gli stessi importi che ha a disposizione adesso anche la scuola specifica i costi specifici per i giudici di pace quindi questo è immediatamente però operativo allora dicevo il coordinamento del tribunale della presenza del tribunale che gestisce il personale fa la tabella organizzativa e assegna gli affari quindi veramente c'è una totale assimilazione che ha una sua logica nel momento in cui evidentemente i got vengono assorbiti in una categoria unica insieme ai giudici di pace chiaramente se rispetto ai got c'è già questa competenza si estende ai giudici di pace non era una conseguenza necessaria è un riflesso però di questa assimilazione e di questa poi intercambiabilità che si va a creare poi in linea di principio quelle che sono le competenze del giudice di pace del magistrato onorario sono sostanzialmente di tre tipi cioè l'altro grosso aspetto di novità è questa esaltazione dell'ufficio del processo per il processo scusate l'ufficio per il processo leggendo la relazione occupa una parte prepomberante direi addirittura della relazione perché l'ufficio per il processo che voi sapete è stato previsto è introdotto sperimentalmente per ora dal decreto legge 90 del 2014 l'articolo 50 ecco come è stato introdotto è stato introdotto utilizzando però i tirocinanti io tra l'altro come direttore della scuola specializzazione avevo delle cose da dire nel senso che stanno facendo concorrenza sleale le scuole specializzazione e qui vorrei spendere qualche parola se ho tempo e cioè cosa succede che l'ufficio del processo secondo me è una bellissima cosa rifletti esperienze straniere nelle due città in cui è stata introdotta funziona molto bene anche se sui dati statistici nel senso si dice è aumentata il 50% la produttività del giudice diminuito il 23% la durata dei processi Milano e Firenze però a mio avviso i dati vanno un po' tarati sia perché sono due sedi efficienti sia perché i magistrati io riconosco insomma quelli che accettano che hanno accettato di avere il tirocinante che gli fa da come dire supporto nelle attività preparatorie sono magistrati già qualificati selezionati cioè che sono proposti volontariamente quindi sono i migliori sostanzialmente per lo meno per quelli che conosco io a Verona quindi sono dati molto buoni ma sono dati anche come dire di punta ecco però in ogni caso sono convinto anche io che l'ufficio per il processo sia importante anche perché come si evince nella relazione ripeto che dedica pagine e pagine su questo punto si collega al processo telematico e all'informatizzazione che dovrà essere poi anche maggiore anche in serie di processo penale quindi è chiaro che lì avere un supporto importante appunto di una fascia di giuristi qualificati ma che non sono il magistrato titolare ma il magistrato professionale è importante quindi i tirocinanti sono serviti a questo scopo e quindi perché voglio spendere una parola perché il tirocinio nasce con le scuole specializzazione forense che prevedono obbligatoriamente un tirocinio minimo per tutti sia di civile che di penale per tutti gli specializzanti nascevano le scuole come canali di ingresso privilegiati alla magistratura oltre che all'avvocatura e al notariato in misura minore quindi un'idea che a mio avviso era molto bella cioè di una formazione comune del giurista del giurista forense diciamo che è operativo poi nell'ambito di giustizia e che univa alla parte diciamo teorica accademica di lezioni la parte pratica addirittura il decreto parla fino al 50% delle ore possono essere dedicate ad esercitazioni pratiche sulle 500 su tutte le materie quindi una scuola completa purtroppo questa scuola non è funzionata a metà sono in grande crisi un po' per ragioni endogene cioè nel senso che noi accademici quando dobbiamo fare la mia colpa cioè l'abbiamo usata molto come sede di ripartizione tra le materie tradizionali riproducendo modelli in terzo livello dell'università e quindi cercando ogni materia di avere la sua nicchia con il suo tutor con i suoi docenti eccetera eccetera anche perché sono abbastanza ben finanziate e poco abbiamo dato spazio alle recitazioni pratiche perché i docenti in realtà devono essere anche universitari avvocati magistrati notai quindi avere un'esperienza plurima di insegnamento anche teorico pratico però dall'altro lato devo dire al di là di queste pecca endogene c'è la pecca enorme del legislatore cioè che ha tagliato le gambe via via queste scuole e infatti siamo coordinati proprio recentemente per proposte legislative di modifica perché prima ha ridotto a 18 mesi la pratica di avvocato 18 mesi e quindi non sono più i 24 della scuola poi perché ha introdotto in via sperimentale i tirocini dell'articolo 37 della legge 111 che sono quelli su cui hanno fatto l'esperienza a Milano e Firenze in questi casi cioè i tirocini compatibili con la frequenza delle scuole specializzazioni nel Verona abbiamo fatto un'ottima qui a Trento idem nella nostra scuola Trento-Verona che è congiunta ha fatto delle convenzioni molto buone che rendono compatibili la scuola specializzazione lunedì e venerdì col tirocino tra i giorni e quindi senza perdere l'arricchimento che dà la scuola in una formazione che non può essere solo tirocino ma siccome ha funzionato bene per i giudici nel 2014 c'è il decreto legge che fa il tirocino di 18 mesi sostitutivo della scuola cioè da diretto all'accesso alla magistratura prescinde dai processi formativi prescinde dalla frequenza di lezioni e quindi i ragazzi io ne conosco anche tanti si sono trovati a volte a fare 18 mesi i vice cancellieri cioè o portare le pratiche in archivi o fare comunque solo una disciplina al massimo due quando qualche magistrato di intelligenza gli ha fatto fare una rotazione non so dal diritto societario al diritto dei contratti alla sezione però non possono fare famiglie insomma cioè e questo tirocino 18 mesi che adesso viene promosso dai magistrati perché appunto è come dire giovani volonterosi che vogliono entrare in magistratura e così in realtà svuota le scuole svuota una formazione completa teorico pratica e la riduce chiaramente cioè io ti offro l'accesso alla magistratura e tu lavora per me 18 mesi che è un approccio secondo me sbagliatissimo alla formazione dei nuovi giuristi e allora perché ho fatto questa lunga digressione perché non vorrei che rispetto all'ufficio del giudice sì la relazione dice sì c'è un'integrazione di professionalità e esperienze diverse ma i nuovi giudici di pace o i vecchi che verranno inseriti a domanda perché i vecchi per voi in servizio solo a domanda non vi possono obbligare ad andare al giudice di pace perché sono pagati meno che esercitano funzioni giurisdizionali meno vuol dire 15.000 euro all'anno sostanzialmente perché ho rete nelle tabelle finali lordi ecco dico ma hanno il ruolo di ruota di scorta o sono veramente inseriti come magistrati onorari cioè sono come dei tirocinanti a costo zero che li paghiamo dicendo che vi ammettiamo al concorso di magistratura o li vogliamo veramente formare come giudizio giuristi autonomi che sanno poi anche esercitare la giurisdizione in futuro questo è un punto secondo me veramente forte da da criticare della legge perché il diritto complessivo dell'ufficio del processo che è bellissimo in sé ma poi per andare a costo zero viaggia su delle gambe che sono una parola forte sono di sfruttare diciamo delle situazioni che costano poco allora questa non è una riformazione della giustizia e infatti io pongo subito quelle che poi sono le mie conclusioni ho letto perché adesso c'è queste belle norme sulla fattibilità sulla valutazione dei risultati sulle opzioni alternative eccetera e si parla appunto di come indicatori il numero delle cause trattate dei provvedimenti emessi della durata dei processi eccetera e quindi efficienza produttività durata ridotta paghiamo meno per la legge pinta eccetera flessibilità non trovo una virgola una parola sulla qualità la qualità della giustizia ma a me mi interessa la qualità della giustizia più che sei mesi in più non c'è una parola un controllo sulle impugnazioni sugli esiti sulle conciliazioni pervenute non c'è una parola sulla qualità non c'è un indicatore di qualità e voglio dire ma non ci può essere perché se io non do cioè do dei percorsi formativi che però sono le riunioni con i magistrati e dei corsi ad hoc una volta ogni sei mesi ma non c'è un percorso formativo come dire completo soprattutto le giovani generazioni voglio dire io direi fatte tutta la scuola specializzazione e delle posizioni legali per andare a fare i magistrati onorari o qualcosa del genere cioè che non vi dia soltanto come dire l'appendice ad hoc e poi il centro sul tirocinio tutto l'anno in posizione ausiliaria sostanzialmente quindi questa è la mia critica più forte diciamo dal punto di vista sostanziale dopodiché per carità il mix di come dire funzioni giudiziarie funzioni di supporto sebbene integrato va bene nel senso che io non sono neanche contrario al discorso della direttiva insomma cioè effettivamente se ha senso una distinzione tra magistratura onoraria e magistratura professionale è evidente che la magistratura professionale essendo professionale deve avere una funzione di direttiva e anche di formazione e va riconosciuta a sto ruolo questi progetti che io ho visto queste richieste di alcuni di alcuni sindacati dei giudici di pace non dico le cose chiare insomma anche se siete davanti a me che chiedono la stabilizzazione l'accesso privilegiato ai concorsi riservati insomma questo modo italico di stabilizzare il precariato prima lo si crea prima lo si stabilizza senza questo veramente nel campo giudiziario sarebbe veramente insomma come in parte lo è stato a volte nel campo universitario uccide però la qualità voglio dire cioè se noi non facciamo un discorso sulla qualità siamo perdenti in tutti i settori ormai perché se non altro perché il mondo è competitivo la globalizzazione c'è per tutto ma perché c'è l'esigenza di una qualità reale e la qualità reale si crea con una formazione reale e senza come dire fare il gioco delle tre carte e trovare come dire reclutare insomma persone che sono disponibili che potrebbero essere motivate che potrebbero essere indirizzate però reclutarle a funzioni nella misura in cui fa il comodo però senza un quadro complessivo ripeto che punti a un miglioramento qualitativo della giustizia della giustizia penale in Italia dopo di chi ripeto è chiaro che il discorso invece della funzione delegata perché poi appunto il giudice di pagina ha queste tre funzioni insomma sostanzialmente l'ausiliare il delegato da parte del magistrato professionale o del procuratore e poi dopo per singoli provvedimenti più semplici eccetera eccetera e poi in casi limitati tassativi ma questo non so fino a che punto poi saranno limitati veramente funzioni giuridizionali piene certamente nell'ambito della competenza del giudice di pace questa direi un po' la sintesi del decreto ovviamente ho fatto una lettura molto frettolosa però penso che ci siano dei chiari scuri molto forti però ripeto ho già parlato abbastanza su questo punto della qualità io veramente mi sento che bisogna battersi con molta 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 energia grazie per dovere di supplenza è stata una mezza relazione passo la parola adesso ai politici all'assessore di Thomas no nella sua destra ovviamente assessore prima di tutto ma però anche come esperienza parlamentare ci potrà dire forse qualcosa anche di più capacità di leggere le dinamiche ci possono essere dietro cosa si può fare anche eventualmente al di là della clausola trentina non porto responsabilità per questa iniziativa che è del governo in qualche modo e pure sulla questione delle pregresse mie esperienze devo dire che mi aiutano poco perché mi dicono che ormai il Parlamento ha adottato questo sistema dei tempi di Renzi che credo sia una procedura nuovissima per cui dicevo ieri questo disegno di legge è rimasto fermo per quasi un anno quattro mesi al ministero per il parere sugli emendamenti e poi improvvisamente in mezza giornata è stata licenziata dalla commissione ed è in aula tutti gli emendamenti sono stati la gran parte ritirati tutto il dibattito che era nato in sede di discussione generale sull'opportunità o meno e questo voglio dire questo dibattito aveva interrogato anche all'interno del ministero da quanto mi ha dato capire sulla opportunità o meno di fare un disegno di legge immediatamente preceptivo e quindi operativo subito ovvero proseguire e proseguire nell'impianto della legge delega cosa che francamente essendo così complessa la materia mi pare preferibile anche perché poi il legislatore delegato insomma in qualche modo ha più possibilità anche via via di monitorare gli effetti della legge della norma detto ciò come dire quando ho iniziato a vedere questa legge anche sul suggerimento della dottoressa Mattevi che ringrazio molto mi sono come dire ho letto con un po' di attenzione la relazione che presenta esattamente quelle cose che ha detto lei nel senso che dedica moltissimo spazio all'ufficio del giudice mentre siccome questa è una riforma sostanzialmente organica in qualche modo sugli aspetti culturali e quelli che insomma la politica dovrebbe fare propri o quelli che dovrebbero muovere il legislatore quindi gli elementi di fondo non vedo spese grandi parole sull'ufficio del giudice sì c'è tutta una riflessione comparatistica ma soprattutto incentrata su criteri che sono quelli dell'efficienza della capacità di dare risposte ma un'analisi come dire non dico filosofica ma insomma e devo dire che le relazioni di ieri mi hanno portato un po' di suggestioni poi nel prosieguo cercherò di dare un filo a questo intervento ma in particolare mi era piaciuta la riflessione che aveva fatto il professor Cortese sulle sulle caratterizzazioni su cosa caratterizza il giudice di pace anche quando è stato introdotto ex novo in un ordinamento e mi era piaciuta molto e come dire era molto suggestiva l'idea del giudice di pace che costruisce una nuova cittadinanza nel senso che costruisce un nuovo rapporto tra il cittadino e lo Stato lo Stato che dirime i conflitti tra i cittadini e che le modalità di questa soluzione dei conflitti sostanzialmente permea anche il concetto stesso di cittadinanza per cui il ruolo di questa giustizia che è una giustizia che per quanto abbia caratteristiche molto anali dal punto di vista anche del però come dire si muove su con criteri e anche dal punto di vista non soltanto del reclutamento ma anche per lo strumento che ha per esempio del giudizio di equità si muove con procedure che sono sue che affondano le radici proprio nel profondo degli elementi che fondano il patto e su questo mi piaceva mi sarebbe piaciuto che ci fosse la riflessione e se manca questo naturalmente molte cose non possono non mancare nel senso che non si va a fondo nell'indagare quali sono se non dal punto di vista dell'efficienza e dal punto di vista ragionieristico le caratteristiche di questo giustizio e su questo credo questa carenza permei tutto l'impianto e naturalmente genera quelle contraddizioni ieri il dottor il dottor è stato piuttosto severo nel giudicare questo disegno di legge ma in alcuni aspetti credo che invece vada colto anche qualche elemento positivo dopodiché capiscono si possono fare le nozze con i fichi secchi e una riforma di questa portata che sposta di molto il peso del servizio e rimango anch'io adesso sull'aspetto ragionieristico che sposta di molto il peso dell'attività giurisdizionale e lo sposta e chi quanto meno una compensazione dovrebbe esserci e qui invece non c'è perché questa riforma si muove in un binario strettissimo che non tocca se non con l'ufficio del processo o l'ufficio del giudice mi piace questa distinzione non l'ufficio del processo ma se manca qualche attore del processo diventa l'ufficio del giudice però se non per quello tocca poco tutto il resto del panorama della giustizia per cui se lì non si decide di investire qualcosa attingendo magari da qualche altro capitolo che da questa riforma viene sgravato francamente diventa difficile e anche gli equilibri saltano cosa posso dire mi piaceva dicevo questo aspetto che attingeva parlo da politico e da politico che ragiona qui in Trentino Alto Adige poi dirò qualche cosa su cosa ci si aspetta noi da questa legge ma una delle cose che subito mi ha colpito è il fatto o meglio che ho cercato di raccogliere questa opportunità quando dicevo che questa legge va manca di questo aspetto che è quello filosofico complessivo e invece mi sono piaciuti questi riferimenti alla nuova cittadinanza a un diverso modo di approcciare la giustizia che attingeva anche al rapporto tra cittadini e lo Stato non potevo non pensare che in questa regione dove il territorio ha una gestione particolare e come dire anche dal punto di vista civilistico è toccato dal sistema del tavolare pensavo se il rapporto tra cittadini se il rapporto tra Stato e cittadini che è una cosa che non può prescindere dal aspetto del territorio e se questo è gestito in una maniera particolare può essere che un giudice che ha un forte radicamento in termini anche culturali con il territorio può essere il giudice che decide anche le questioni che attengono al rapporto tra cittadino e territorio e terreno dove appoggia i piedi per cui mi pareva un'occasione questa per proporre al Parlamento una riflessione sull'opportunità di attribuire al giudice di pace le competenze in materia di tavolare e quindi di trasformare il giudice di pace o meglio attribuire anche al giudice di pace la funzione di giudice tavolare mi sembrava una riflessione che poteva avere la sua dignità sono stati presentati alcuni emendamenti in questo senso che poi sono stati ritirati ma in sede di aula proporrò ancora questa riflessione spero che venga recepita la preoccupazione di molti è sempre sull'aspetto della qualità del servizio e devo dire che anche questo disegno di legge in questo disegno di legge traspare sicuramente non c'è un investimento in fiducia nella figura del giudice di pace lo si vede quando vengono attribuite da un lato funzioni sostanziose importanti però dall'altro lato il rapporto tra il Presidente del Tribunale che in qualche modo dà delle direttive che ieri si è visto che possono avere anche qualche riflesso di natura costituzionale sull'indipendenza del giudice che non può essere soggetto naturalmente a delle direttive ma in questo caso gli si attribuiscono delle competenze maggiori ma lo si assoggetta o si vorrebbe assoggettare a delle direttive che in qualche modo andrebbero ad incidere oggettivamente nell'attività del giudizionaggio questo insieme al fatto che ripeto non si investe nulla in più in termini anche di risorse fa capire insomma che come dire un investimento vero in termini anche di costruire magari o di potenziare anche in termini qualitativi questa figura mi pare di vedere che si è vero si parla molto di formazione ma ripeto lo ricordava il professor Picotti nel momento in cui si parla di formazione ma non si parla di risorse per costruire questi percorsi organici direi istituzionalizzati perché questi incontri trimestrali non è che diano garanzie di formazione oggettiva insomma credo che ci sarà ancora molto da discutere io spero che il dibattito parlamentare apra una riflessione un po' più più seria mi verrebbe da dire ma comunque un po' più approfondita su questo disegno di legge certo che l'Aula non è l'ambiente più adatto per fare grandi riflessioni io spero auspico che il legislatore delegato invece possa farle queste riflessioni anche perché le deliche sono in alcuni ambiti in alcuni aspetti sono piuttosto di maglia larga insomma la riflessione in questo caso può essere come dire più 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 profonda e spero che in qualche modo vada a toccare le questioni di fondo certo che non sarebbe la funzione del giudice delegato aprire questioni politiche nel senso che è il legislatore delegante che in qualche modo queste questioni le dovrebbe dirimere ma tante molte di queste criticità d'altro lato qui siamo un po' fortunati abbiamo una regione che ha delle competenze in materia molte di queste criticità qui forse riusciremo ad ovviarle però direi con buona pace dell'unicità della giurisdizione però insomma devo dire che noi come territorio ci assumiamo anche la responsabilità di considerare la giustizia e la fruizione del servizio di giustizia come uno degli elementi che qualificano la nostra la nostra autonomia il nostro stare insieme e la nostra comunità per cui insomma noi quello che investiamo credo che lo investiamo sapendo che è appunto un investimento e qui nel corso degli anni insomma abbiamo costruito non per merito mio in larga misura per merito della dottoressa Tassinari e degli assessori che mi hanno preceduto ma insomma con l'università di Trento insomma abbiamo costruito un percorso di formazione continua insomma che credo abbia una certa organicità anche in collaborazione naturalmente con la scuola superiore della magistratura insomma un percorso della coerenza e che oggettivamente costruisce un progetto di formazione che ha una sua validità dall'altro lato dicevo ieri quando nelle riflessioni di oggi insomma l'ho fatto un po' trasparire manca un po' un investimento serio direi soprattutto perché la distribuzione sul territorio del giudice di pace quindi della figura del giudice di pace e qui mi sono concentrato molto sul giudice di pace più che non sulle altre figure di magistratura onoraria ma proprio perché su questo abbiamo competenza come regione ecco dicevo la distribuzione degli uffici del giudice di pace sul territorio nazionale è come dire lasciata alla buona volontà dei comuni sostanzialmente per cui noi qui siamo riusciti a presidiare il territorio e abbiamo considerato il giudice di pace davvero come giudice di prossimità che in qualche modo ricorda alla alla popolazione alla cittadinanza che questo servizio è un servizio che può avere dei tratti anche di di vicinanza e di di interpretazione anche legata al territorio della e dall'altro lato invece in altre parti d'Italia questo non c'è e dicevo anche questo con buona pace dell'unicità della giurisdizione perché naturalmente l'organizzazione non è neutrale rispetto alla erogazione del servizio per cui qui abbiamo un giudice di pace che funziona anche grazie ai giudici di pace stessi insomma che grazie alla formazione ma anche all'impegno che ci mettono e alla voglia di fare insomma abbiamo una situazione piuttosto che è un po' un modello e è presidiata da questo particolare sistema e dentro il disegno di legge originaria non vi era nulla che dicesse che prendesse atto di queste situazioni in particolare del Trentino Alto Adige e parzialmente della Valle d'Aosta con una serie di emendamenti è stato introdotto nel testo e quindi nel testo che andrà in aula c'è la norma cosiddetta norma di salvaguardia che fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e quindi l'applicazione degli istituti verranno sostanzialmente le particolarità verranno introdotte con una norma di attuazione adesso ieri lo dicevo insomma anche questa è un'operazione molto delicata perché la norma di attuazione si dovrà muovere dentro binari piuttosto stretti cercheremo di allargare il più possibile ma naturalmente essendo la materia ordinamentale dell'organizzazione della giustizia una riserva di legge statale insomma dovremmo muoverci con intelligenza come peraltro siamo riusciti a fare quando facciamo la norma sui giudici di pace estendendo la disciplina statutariamente prevista in materia di giudici di conciliazione e che naturalmente ci consentì di avere questo sistema qui si apre questa scommessa se riusciremo in qualche modo ad aprire ulteriormente queste maglie che dicevo sono un po' strette ma insomma in qualche modo ci metterà anche noi alla prova naturalmente alcune preoccupazioni ci sono dal punto di vista organizzativo non le nascondo sono uscite ieri e oggi usciranno ancora nel senso che come potremmo fare nella fase immediatamente successiva all'emanazione dei primi decreti legislativi se non potranno essere messi dentro l'ufficio del giudice di pace nuovi magistrati onorari e alcuni dei nostri collaboratori dei nostri magistrati usciranno avremo a fronte di una carenza di organico già come dire molto sensibile avremo una fase transitoria che si prospetta molto problematica su questo bisognerà che il legislatore ci metta una pezza perché se crea problemi a noi suppongo che li creerà in tutto il resto del paese insomma se una riforma parte così parte davvero zoppa perché a quel punto lì se non hai il personale che può per quanto bella possa essere la norma se non hai le risorse umane i magistrati che possono darne attuazione diventa un problema serio credo che un po' di riflessioni sarà inevitabile che il Parlamento le faccia alcune modifiche credo che si impongano e l'idea che ieri il Presidente Grillo ha in qualche modo mutato sul tavolo che è quella di costruire un documento quantomeno una sintesi dei contenuti soprattutto quelli che sono operativi che possono essere subito trasformati in proposte emendative potrebbe essere una buona proposta che rilancio anche oggi su questo tavolo grazie grazie un contributo sì ma ci aspettavamo insomma critico e articolato che ha illustrato diversi profili ma luci e ombre che ci sono in questa riforma sicuramente è un'occasione da non perdere ma bisogna che vada in porte in maniera come dire completa e convincente non così solo con la fretta insomma condivido perfettamente questa dirigenza adesso sentiamo la collega professoressa Maria Antonella Pasquilli nel suo punto di vista su questa progettata riforma grazie professore io ringrazio prima di tutto la regione Trentino Alto Adige e attraverso la dottoressa Mattevi l'università di Trento che mi accoglie mi fa sentire a casa ed è una sensazione meravigliosa a fronte dei dibattiti relativi a questi disegni di legge mi piace far partire il mio intervento che avrà natura essenzialmente pratica pur essendo una teorica dei massimi sistemi valorizzare due aspetti che sono stati evidenziati il primo ieri dal professor Florenzano quando nel dibattito relativo agli articoli 102, 106 e 107 della Costituzione ha evidenziato come di fatto il processo di selezione della magistratura non potesse in alcun modo valorizzare il carattere del magistrato e oggi colgo la stessa sensibilità nelle parole del professor Picotti per quanto riguarda il concetto di qualità io sono stata giudice onorario di tribunale per 12 anni nel circondario di Trani una isola felice al pari del Trentino Alto Adige o nella vostra facoltà in cui ho vissuto un'esperienza meravigliosa e ho provato sulla mia pelle seguendo come membro della Federmot che è l'associazione dei magistrati onorari e attraverso proprio la mia esperienza sia universitaria che professionale quella che è l'evoluzione della figura del giudice onorario di tribunale e di vice procuratori onorari io sono stata selezionata non so per quale ragione perché avevo presentato la mia domanda come vice procuratore onorario essendo avvocato penalista e avendo appena superato il dottorato di ricerca l'esame di ammissione al dottorato di ricerca in diritto penale vengo invece nominata come giudice onorario sottolineo al presidente del tribunale questa mia competenza di tipo penalistico e di tutta risposta senza facendo alcun tirocinio di formazione vengo assegnata a due sezioni distaccate con le funzioni di giudice tutelare quindi mi sono trovata ed ero stata inserita in un collegio di tribunale quindi ho dovuto studiare mia sponte tutta la questione relativa ed è stata una partecipazione di carattere di cultura di impegno in termini temporali che ha dato i suoi frutti sicuramente ma che denota i deficit di questa figura cui è assegnato un compito tremendo io mi sono trovata di fronte a situazioni come l'applicazione per la prima volta della legge degli affidamenti familiari che è stata un'esperienza molto forte da tanti punti di vista oppure mi sono trovata a decidere per delle IVG altra esperienza molto forte senza le competenze del caso quindi devo dire c'è stata una collaborazione molto stretta con i giudici con i giudici togati ma soltanto perché ho trovato una disponibilità ma alcun corso di formazione alcuna collaborazione alcuna sensibilità nei confronti del compito svolto dai giudici onorari è stato sostenuto dalle istituzioni in questo caso ed è bello vedere come in una regione come la vostra invece ciò avvenga oltre a questa situazione dopo finalmente cinque anni di esperienza di questo genere e seguendo tutti i dibattiti perché non credete questi disegni di legge sono anni che li propongono e sempre a costo zero concluderò il mio intervento con l'incontro che c'è stato l'altro giorno il primo dicembre con il ministro Orlando da parte delle associazioni dei magistrati onorari in cui ancora una volta si ribadisce che non è possibile spostare le spese di giustizia dal ministero al ministero delle finanze perché ci sarebbe un aggravamento delle spese anche in termini di procedure di contabilizzazione che adesso invece è facilitato io ricordo che per essere pagata e credetemi sono quanto di più distante dal danaro dovevo quasi perseguire o perseguitare il dirigente di cancelleria e presentare tutta la documentazione non veniva certificata la doppiudienza quindi mi sembrava di chiedere l'elemosina che è una sensazione orribile sono arrivata il mio ultimo mandato a minacciare velatamente un dirigente di cancelleria per omissione d'atti d'ufficio per essere gentile quindi il mio passaggio nel quinquennio successivo è stato poi quello relativo alla competenza penale finalmente dove ha avuto un vero e proprio ruolo penale questo è contrario a tutti i principi dell'ordinamento giudiziario che un giudice onorario possa gestire un ruolo penale io l'ho fatto col massimo impegno con la massima preparazione e devo dire con risultati in termini statistici di eccellenza perché il nostro tribunale ha raggiunto il massimo nella produttività di sentenze e di ordinanze peraltro venendo dal privato dove in uno studio legale si lavora da matti l'idea della prescrizione mi uccideva quindi ho cercato non soltanto di compilare i famosi patteggiamenti o ipotesi di conciliazione ma di terminare i processi in un tempo congruo quindi tutti gli avvocati erano a conoscenza della mia celerità e competenza in questa situazione a che costo? Zero tutti i nostri provvedimenti sentenze ordinanze noi giudici onorari non abbiamo alcuna forma di pagamento bisogna dirlo questo perché è vero a parte come ieri il collega il collega ha evidenziato questa situazione relativa alla situazione dei giudici di pace ma quella dei giudici onorari per certi versi anche peggiore ripeto io ho conosciuto in questo contesto vice procuratori onorari che erano dislocati nelle varie sedi di staccate perché bisogna dirlo i magistrati togati non vogliono andare nelle sedi di staccate tutti vogliono svolgere la propria funzione nella sezione centrale di tribunale quindi questa mancanza di volontà è dovuta al fatto che io mi scuso assessore per i toni passionali ma le voglio dire una cosa io penso che il legislatore sia stato ben più sensibile io penso che lo stesso nostro presidente comunque il potere politico sia stato più sensibile della magistratura togata che non vuole che noi possiamo essere stabilizzati corso concorso selezione all'ennesima potenza nell'ambito della pubblica amministrazione c'è la scuola superiore per formare i dirigenti di certo rilievo perché ciò non avviene nella magistratura onoraria che esercita una funzione massima costituzionalmente garantita non è dato a capire perché ciò non accade però però i giudici togati si servono in funzione di supplenza in caso di incompatibilità in caso di assenza o quando fa comodo a loro è come se noi fossimo giocatori di serie B però dobbiamo giocare in serie A senza avere alcuna considerazione quindi mi è capitato di avere non ho avuto mai provvedimenti disciplinari però una volta una dottoressa che io avevo sostituito senza mai lamentarmi mi fa un reclamo al presidente del tribunale fra l'altro senza conoscere le norme del codice di procedura penale dell'ordinamento penitenziario dicendo che io mi ero rifiutata di svolgere il mio incarico perché avevo rifiutato di fare una direttissima che non era mia competenza quindi disporre la convalida di un arresto infermo non rientra né nell'ordinamento giudiziario fra l'altro senza delega relativamente al provvedimento in questione quindi scusatemi se sono così accesa sull'argomento pur avendo dato le dimissioni un paio di anni fa da giudice onorario però è una missione che io ho adorato sia da un punto di vista caratteriale sia da un punto di vista della qualità sia da un punto di vista del mestiere perché è l'unica realtà che ci consente di essere autonomi e di fare del bene per qualcuno e che ha contribuito in un certo qual modo a una sorta di equilibrio nella mia vita pertanto c'è una parte della magistratura che è assai reticente nei confronti dell'apertura nei confronti della magistratura onoraria quindi a mio parere queste situazioni questi disegni di legge sono tentativi del legislatore ma che trovano ostacoli non voluti dai giudici onorari ora ci sono una serie di colleghi che hanno sollevato questioni dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo per la questione della stabilizzazione così come è stato fatto per il precariato nella scuola non è detto che non abbiano non è detto che non abbiano ragione riguardo sicuramente una gran parte dei giudici della magistratura onoraria a gravi pecche non so se avete sentito mi dispiace dirlo però noi abbiamo avuto un grosso scandalo per quanto riguarda la magistratura onoraria dei giudici di pace a Bari ci sono stati professionisti che si sono venduti per veramente pochi soldi per veramente ipotesi di corruzione terrificanti quindi non mi sento neanche di dire che siamo tutti meravigliosi e splendidi però ci deve essere una scelta politica di intervenire quantomeno per trovare delle soluzioni che segnino un passaggio e quelle che io rilevo nei vari disegni di legge presentati nel corso di questi anni ultimo questo una sorta di fermezza su alcuni punti ma in realtà non c'è lo sblocco del passaggio in un riconoscimento formale e sostanziale della figura del giudice onorario possiamo fare il giudice possiamo stabilire un miglioramento delle condizioni economiche possiamo stabilire un triennio perché ci sia una sorta come è stato evidenziato dal ministro una temporaneità dell'incarico ma incardinata in un ufficio e pertanto una sorta di considerazione del giudice onorario come parte di un organico strutturato che contribuisce per un terzo a risolvere i problemi della giustizia del paese quindi sono scettica sono perplessa e mi piace che ci siano questi dibattiti che possano dare una risposta in questo senso concludo senza tediarvi ulteriormente con un'idea con quelle che sono state le considerazioni del ministro in questo incontro che c'è stato con la Federmott la previsione legislativa che autorizza queste sono parole del ministro nel corso della riunione la previsione legislativa che autorizza il ministero a rimodulare i compensi e le spese per la magistratura onoraria è volta esclusivamente ad allineare la relativa posta contabile in bilancio quindi non ci sarà alcuna diminuzione come era stato previsto meno male io ricordo che all'incirca per due udienze sono circa 150 euro vagamente rispetto ai precedenti incontri si segnala quale elemento di novità l'avvio presso l'Unione Europea della procedura di infrazione contro l'inquadramento a tempo determinato dei magistrati onorari in servizio da più mandati e l'apertura della predetta procedura di infrazione potrebbe determinare o favorire l'approntamento di un regime differenziato per il personale attualmente in servizio quindi si creerebbe il doppio binario tanto caro agli italiani fra coloro i quali abbiano svolto le funzioni di giudice onorario che abbiano fatto ricorso alla Corte Europea per la loro stabilizzazione e coloro i quali saranno assunti presumibilmente con questi nuovi bandi in divenire un'altra considerazione che veniva fatto è quella di essere trattati meno delle cameriere meno delle colfe scusate se sono offensiva noi avevamo la conferma del mandato il pomeriggio del 31 dicembre con la legge che arrivava fino al mezzo che è una sensazione terribile da tutti i punti di vista per la funzione che viene svolta e per la considerazione nella nostra funzione per il personale di futuro anonim nomine in coerenza con i predetti vincoli derivanti dal diritto dell'Unione Europea sarà necessario affermare con puntualità che il rapporto di servizio onorario deve essere a tempo determinato ripeto qualunque soluzione può essere discutibile può essere applicata che venga applicata e prima della procedura dell'avvio dell'apertura della procedura di infrazione l'intento del governo era di azzerare il contachilometri parole testuali del ministro per tutti i magistrati onorari i giudici di pace prevedendo anche per quelli già in servizio tre nuovi mandati in modo tale che si potesse raggiungere la soglia pensionabile tenete conto che noi sostituiamo i giudici togati quando loro hanno sono per malattie gravidanza per situazioni mentre nessuno di noi ci sostituisce nessuno di noi ci considera nel momento in cui io ricordo di essere andata fino al settimo mese abbondante a svolgere le mie pensioni di giudice e senza aver chiesto mai nessuna sostituzione nessun problema ma ne me l'avrebbero mai dato sono certa di questo il governo verosimilmente attenderà gli esiti della procedura di infrazione prima di modificare l'attuale predetto impianto della proposta di riforma legislativa ma potrebbe essere anche ravvisata l'opportunità di agire in anticipo rispetto all'esito di questa procedura di infrazione e che comunque non può escludersi che all'esito della stabilizzazione che dovesse essere imposta dagli esiti della procedura possono esserci modificazioni delle condizioni economiche del rapporto di servizio peggiori di quelli attuali per i simili magistrati onorari sempre parole del ministro ora concludo dicendo che il trasferimento delle attuali risorse stanziate in bilancio circa 130 milioni di euro della voce spese di giustizia a quelle di spese di parte corrente non consentirebbe più di coprire il fabbisogno del predetto personale con la medesima elasticità che connota l'attuale contabilità basata su un sistema retributivo esclusivamente a Cottimo noi siamo lavoratori a Cottimo qualificati vi ringrazio di avermi ascoltato grazie per questo intervento appassionato è anche molto puntuale su dei punti critici come dire che sono stati sperimentati che devono essere emendati sicuramente questo tema del precariato effettivamente è un discorso due facce cioè da un lato non può valere la regola di una stabilizzazione come dire a pioggia insomma perché ne va non solo della stessa essenza della qualità onoraria di questa magistratura ma anche appunto di una selezione effettiva sulla qualità però dall'altro lato il sistema della proroga è un sistema cieco cioè della proroga senza selezione l'integno di legge mi avviso con questo discorso che a ogni quadriennio c'è una verifica dell'attività formativa può essere come dire un'indicazione è un'indicazione molto labile è un punto che mi sono dimenticato di dire cioè si dice semplicemente se non è stata frequentata l'attività formativa obbligatoria se ne tiene conto negativamente nella nel passaggio nella conferma però non c'è niente di prescrittivo non è non è un'infrazione disciplinare potrebbe essere proprio meno un'infrazione disciplinare mi avviso di non frequentare l'attività formativa obbligatoria ma non basta poi frequentare cioè ci vuole una verifica di qualità e questo ripeto se non ci sono dei meccanismi di verifica di qualità nell'accesso nella permanenza nel passaggio della conferma eccetera non basta la frequenza appunto autoreferenziale perché secondo me il difetto di questo meccanismo formativo è l'autoreferenzialità cioè si parla nell'unione con i magistrati c'è la scuola superiore e l'amministratura un semestre una volta al semestre però è sempre in un ambito chiuso insomma ci vorrebbe un'apertura proprio maggiore proprio anche rispetto a quel ruolo del che diceva del Thomas cioè di un rapporto con la cittadinanza che sia veramente qualificante bene comunque andiamo avanti con il nostro programma e adesso sentiamo la parola di giudice di pace Maria Costanza Giatti e avvocato giudice di pace a cui cede volentieri la parola ci comunichi le sue esperienze le sue impressioni con grande interesse allora saluto tutti i presenti cordialmente si sente? si si ok ringrazio il comitato organizzativo di avermi invitato a partecipare a questa tavola rotonda e ieri mentre rientravo a casa dopo l'incontro ho fatto alcune riflessioni ho constatato che si è cercato di definire concettualmente la figura del magistrato onorario e riflettevo alla luce anche di questa funzione che io svolgo da quasi dieci anni e io devo dire che il giudice di pace è un magistrato un magistrato che svolge una funzione giurisdizionale punto questo è un dato è un dato di fatto che è stato riconosciuto anche da tutti i relatori che hanno parlato prima di me ma è un dato di fatto che è rimandato dalla realtà io questo lavoro lo faccio lo faccio come ha detto anche la professoressa che ha fatto un'esperienza analoga con passione perché è vero ci vuole carattere bisogna avere questo senso civico molto molto forte e stare attaccati a questo perché se si si guardano un po' gli aspetti economici a volte ci si sente amareggiate ma per farvi capire noi è vero come ha detto l'assessore siamo dei giudici di prossimità perché noi siamo fortemente radicati sul territorio delle due province autonome quindi della regione Trentino-Altoalige noi siamo dei magistrati che svolgono una funzione giurisdizionale perché noi dobbiamo rispettare le due procedure la procedura civile e la procedura penale dobbiamo avere molto chiari i principi fondamentali del diritto civile e del diritto penale e dobbiamo inoltre svolgere anche delle competenze di nostra esclusiva attribuzione in materie che sembrano un po' più di nicchia ma che sono quelle che interessano più il cittadino e mi riferisco alla competenza per le opposizioni a sanzioni amministrative violazioni del codice della strada le famose multe laddove il cittadino può stare in giudizio anche da solo può radicare ricorso improprio ed è qui che la nostra funzione di giudice di prossimità trova il massimo della sua espressione perché noi abbiamo il cittadino di fronte a noi che fa di una cosa banale magari una questione di principio una questione di vita di morte si sente vessato dal vigile che ingiustamente ma nel fare questo noi dobbiamo spesso richiamare il ricorrente che è una persona fisica privata al rispetto delle norme della procedura perché il giudice di pace comunque è un giudice a tutti gli effetti che deve rispettare quella procedura specifica che è prevista per quella specifica materia di sua competenza abbiamo poi anche delle competenze in materia diciamo paraministrativa che sono le competenze per le convalide dei decreti di espulsione questa è una competenza molto delicata io vi racconto un episodio insomma quello che mi è capitato a gennaio di quest'anno era il 7 di gennaio subito dopo le vacanze di Natale sono stata chiamata dalla cancelleria perché c'era un'espulsione disposta dal ministro Alfano dal ministro dell'interno che sono casi rarissimi non si era mai verificata sul nostro territorio perché veniva espulso un pakistano meranese e chiaramente io ho dovuto convalidare questa espulsione e per questa attività che io ho fatto molto delicata perché c'era in questura c'era un fermento c'era il questore c'erano due vicequestori c'erano due della Digos c'erano tre c'era proprio una situazione molto tesa delicata così per questa attività i giudici di pace scusate se parlo anche economicamente comunque a noi sono riconosciuti 10 euro lordi allora io mi dico è evidente che non lo fai per i soldi perché lo fai perché ti senti appartenente a qualcosa più grande di te ti senti appartenente allo Stato ti senti espressione dello Stato e in quel momento lo fai perché sei chiamato a una missione e come è stato detto giustamente ieri da altri relatori e richiamandomi a quello che ha detto l'assessore è vero noi siamo giudici di prossimità e rischiamo se la riforma non entra regime in tempi brevi di essere molto in affanno perché per la provincia di Bolzano a far data dal primo di gennaio noi saremo sette giudici sette giudici di pace su un organico mi sembra di 32 che devono coprire gli uffici che resteranno vacanti parlo dell'ufficio di Merano l'ufficio di Silando l'ufficio di Pipiteno e e perché si fa questo? si fa questo perché ripeto siamo a siamo parte di un sistema a cui a cui vogliamo appartenere apparteniamo con orgoglio ma questo naturalmente comporta dei sacrifici comporta anche un maggior rischio anche circa la funzione svolta perché se si deve coprire l'ufficio di Bolzano che è un ufficio grosso con tutte le competenze di cui vi ho accennato si deve andare a coprire anche Merano noi poi abbiamo anche il bilinguismo capite bene che la qualità la qualità di cui tanto si parla diventa diventa un po' potrebbe diventare suocata però ci tengo anche a dirvi che la qualità la fa la persona secondo me la fa la persona e l'approccio della persona che ricopre quella funzione come ci ha fatto capire la dottoressa la qualità la fa chi prende seriamente la propria la propria la propria funzione e il proprio lavoro quindi è evidente che queste indennità che sono così come sono concepite nella riforma io le devo le devo criticare ma non le voglio criticare ai fini di una rivendicazione sindacale ma ai fini anche della di questa riforma come possiamo pensare che dei nuovi dei nuovi giovani avvocati possano scegliere di diventare giudici di pace onorari nel senso di dire investo 12 anni della mia della mia vita sì sicuramente avrò questa gratificazione questa crescita professionale ma poi finisco a 42 45 anni cosa faccio vado a fare l'avvocato ma sappiamo perfettamente quanto è difficile avviare uno studio legale come si può pensare di avviare uno studio legale a 45 anni forse lo potrà fare chi ha una situazione economica familiare alle spalle che gli consente di porre in essere questa l'attività e la funzione di giudice di pace onorario perché comunque o ha un altro lavoro o ha una situazione magari è una donna parlo anche per me per le mie colleghe che comunque ha una condizione familiare economica che le consente anche di non dover fare un doppio lavoro perché tanti miei colleghi fanno un doppio lavoro perché con quello che siamo retribuiti necessariamente non si può pensare di mantenere una famiglia e allora io io appunto mi chiedo quando la riforma entrerà a regime che come è stato detto ai giudici di pace onorari verrà attribuito l'80% del contenzioso civile non ci sarà più scampo non si potrà avere un lavoro a latere e quindi mi chiedo chi se la riforma entrerà a reggero la riforma accederà a questa a questa funzione di magistrato di pace onorario e in secondo luogo questo un po' per quanto riguarda la funzione e l'indennità adesso vorrei evidenziare alcune criticità che ho rilevato in questo disegno di legge circa le competenze allora come noto le competenze in materia civile verranno notevolmente ampliate passeremo da una competenza per valore dai 30.000 ai 50.000 euro a seconda statesi di danni derivanti dai sinistri statali o cause ordinarie per la competenza per valore e quindi potete immaginare il carico di cause iscritte che saranno di competenza del GDP ma la cosa più sfocata è l'attribuzione ai giudici di pace onorari di alcune competenze per materia specifiche ossia procedimenti di volontaria giurisdizione procedimenti di volontaria giurisdizione in campo successorio e di comunione e procedimenti di esportazione immobiliare bene e fin qua nulla però poi c'è un criterio di attribuzione della competenza ancorato non ancorato a una valutazione oggettiva e chiara ma ancorato alla semplicità o difficoltà che in corso di istruttoria o di fase decisionale emergerà tradotto in termini da come ho capito io pratici vuol dire che la causa viene scritta presso il tribunale dopodiché il magistrato togato che è assegnatario della causa in corso di istruttoria si rende conto che ma questa causa è semplice bene allora io la posso assegnare alla competenza del giudice di pace e a questo punto magari si deve pagare anche un altro contributo unificato mi chiedo mi sono posta questo quesito e il ricorrente attore quando dovrà radicare la causa in materia di volontario giurisdizione che cosa si domanderà sarà di competenza del tribunale sarà di competenza del giudice di pace quindi io veramente mi chiedo e auspico che questo criterio così questa locuzione dell'ancoraggio dell'attribuzione della competenza al giudice di pace ancorato al discorso della semplicità o complessità in fase istruttoria e decisionale possa venire rivisto se non eliminato e un'ultima cosa che volevo evidenziare portare alla vostra attenzione è sempre in base ad un' indennità che qui nella riforma è prevista e che il giudice il presidente del tribunale che dopo ne parlerò dovrà fungere anche da coordinatore dell'attività dei magistrati onorari avrà a disposizione un'indennità un budget che è stabilito dal ministro della giustizia secondo diciamo il bilancio anche annuale e che quindi lascia supporre che di anno in anno possa cambiare a seconda di quelle che sono i numeri diciamo del bilancio dello Stato dopodiché questo budget da come ho capito io verrà conferito al presidente del tribunale i quali lo potranno spalmare sui giudici di pace onorare che hanno rispettato gli obiettivi prefissati dallo stesso presidente del tribunale io a me viene da dire questo è un premio di produttività che sinceramente è anche condivisibile perché comunque è ispirato alla meritocrazia la meritocrazia sicuramente è un valore che secondo me deve essere rivalutato nel nostro contesto sociale però è anche un criterio che indubbiamente si presta a valutazioni soggettive ed arbitrali e sicuramente può andare a discapito della qualità perché diventa difficile sia penso per il colui che deve assegnare questo premio di produttività ma diventa difficile anche per chi lo deve ricevere perché siamo tutti umani e magari per come dire ottenere il premio di produttività ci ritroviamo a fare dei provvedimenti che non sono qualitativamente sono un po' tirati e quindi io sono a favore lo dico sono a favore di questo premio di produttività però desidererei che fosse ancorato a dei criteri prestabiliti oggettivamente prestabiliti prefissati in modo tale che non diventi pericoloso o non diventi uno strumento che possa essere abusato e inoltre deve essere comunque un premio che incide in una percentuale minima rispetto alle indennità fisse sulle indennità fisse che sono molto basse abbiamo ampiamente parlato non mi sembra caso di ritornarci circa poi al fatto che anche nella legge di riforma non sia prevista un trattamento previdenziale e assistenziale su questo vorrei porre la vostra attenzione su un fatto che a giustificazione di un tanto viene invocato l'articolo 106 della Costituzione come dire in virtù dell'articolo 106 della Costituzione i magistrati onorari non possono avere una continuità e di ergo e di conseguenza non possono avere neanche un trattamento previdenziale assistenziale però ieri è stato detto chiare lettere che l'articolo 106 non mi sembra molto calzante in rapporto al discorso della continuità e infine l'ultima cosa riguarda il coordinamento allora noi abbiamo detto che siamo giudici di pace in un contesto particolare sì è vero questo è un dato di fatto oggettivo perché noi abbiamo la regione che ci sostiene e soprattutto l'apparato amministrativo è costituito da dipendenti della regione il nostro coordinatore attualmente è un giudice di pace il sistema funziona benissimo è un sistema virtuoso che consente all'ufficio del giudice di pace il mio personalmente dove io lavoro di funzionare in maniera efficiente egregia e una cosa che voglio dire è un ufficio dove anche i dipendenti ci mettono passione perché quando si entra in quell'ufficio si sta bene è tutto ordinato è tutto è tutto efficiente mi diceva ieri una collega che nell'ufficio del giudice di pace di Venezia i decreti ingiuntivi iscritti ad aprile di quest'anno devono essere ancora assegnati ai giudici di pace da noi l'avvocato viene iscrive il decreto ingiuntivo viene iscritto lo stesso giorno nel giro di 48 ore viene assegnato al giudice di pace che nel giro di altri diciamo tanto 8 giorni viene sottoscritto e questo è anche grazie al personale dipendente che è numeroso non sono sottorganici e possono ademprare la loro funzione in maniera egregia quindi la nostra coordinatrice coordina sia questo personale ed è a stretto contatto col personale che lavora lì in quell'ufficio lo vede quotidianamente tutti i giorni li conosce personalmente sa che persone sono e quindi può adempere la sua funzione di coordinatrice del personale amministrativo in maniera concreta non qualche cosa che è solo sulla carta per magari dare il contentino e dire beh i magistrati ordinari adesso appartengono al tribunale quindi come se fossimo con questo elevati non abbiamo bisogno di essere elevati perché comunque è stato riconosciuto che noi abbiamo una funzione giurisdizionale che non è equiparata a quella che svolgono i magistrati togati è solo la modalità di accesso alla magistratura che da essi ci distingue comunque il coordinamento tornando fatto da così come è strutturato qui da noi consente alla giudice di pace di coordinatrice anche di coordinare i colleghi in maniera concreta perché lei è la prima che ha a che fare con quelle fattispecie che sono tutte fattispecie voglio dire diverse che a volte a me viene da pensare quando ho un caso concreto una fattispecie bene adesso io qui devo fare un abito di sartoria perché la fattispecie concreta è ben altro della fattispecie astratta ogni fattispecie concreta è diversa e va studiata come fare un abito di sartoria su misura quindi la nostra coordinatrice ci coordina benissimo perché lei sa lei ci lavora lei applica alle stesse competenze quindi io veramente spero che grazie alla clausola di salvaguarda il coordinamento possa rimanere ad un giudice di pace onorario e ho letto anche nella riforma che è previsto che il presidente del tribunale nella funzione di coordinatore possa farsi coadiuvare da un magistrato professionista ecco mi piacerebbe inserire per la nostra regione che si faccia coadiuvare o da un magistrato di pace onorario perché per queste ragioni che vi ho appena esposto e quindi io concludo ribadendo che il nostro modello di ufficio del giudice di pace è un modello virtuoso e che dovrebbe essere non come dire svilito o deturpato ma dovrebbe essere preso come modello da adottare anche in altre regioni regioni d'Italia e con questo concludo e vi ringrazio grazie grazie all'avvocato Giatti per questo ottimo intervento dico adesso che era molto timorosa all'inizio mi pare che abbia assolto regalegiamente il suo compito e abbia molto chiaramente toccato dei punti di riflessione importanti adesso concludiamo questo primo giro con la professoressa Gabriella Di Paolo docente di procedura penale qui all'Università di Trento e che da sempre si è occupata anche di questa materia prego Gabriella grazie grazie Presidente aggiungo che anch'io ho avuto un'esperienza come onorario però come vice procuratore onorario tre anni fa molti anni fa quando ero un po' più giovane quindi abbiamo completato a questo tavolo il quadro delle esperienze dal punto di vista della magistratura onoraria anche quella inquirente permettetemi di unirmi comunque ai ringraziamenti perfetto allora abbiamo anche questo prima di entrare in media stress permettetemi però appunto di dedicare un ringraziamento sentito alla regione in particolar modo dottoressa Tassinari ai colleghi che sono responsabili scientifici di questo incontro che sono qui presenti professor Marinelli professor Fornasari e la dottoressa Mattevi perché ci danno come sempre un'opportunità importante di confronto su temi rilevanti sicuramente questo lo è in particolar modo perché il tema dell'organizzazione giudiziaria dell'organizzazione degli uffici è un tema importante ma devo dirlo con dispiacere a volte negletto dai processualisti che sono spesso innamorati della teoria generale del processo di temi culturalmente molto elevati e trascurano un tema che invece come ricordava anche ieri il professor Chizzini è fondamentale e cruciale per l'efficienza del servizio giustizia il processo e l'efficienza del processo non dipende solo dalle regole che lo governano ma dipende molto appunto dall'assetto organizzativo e naturalmente lo dimostra anche la tendenza a voler fare risorse a costo zero nell'investimento di risorse del servizio stesso risorse finanziarie umane e anche materiali quindi è una sollecitazione questa a esplorare un argomento è un tema che appunto trattiamo ma forse non con la dovuta attenzione molto è già stato detto su questo disegno di legge su questa proposta di riforma della magistratura onoraria e anche sulle criticità ne sono emerse ieri ne sono emerse anche oggi anche negli interventi che mi hanno preceduto quindi io svolgerò qualche riflessione che probabilmente non vi sembrerà particolarmente originale perché su alcune di queste criticità mi sento di poter aderire pienamente e però mi preme sottolineare come se c'è convergenza di opinioni su alcuni punti critici forse questo è motivo per il legislatore in questo caso di maggiore attenzione il fatto che ci sia convergenza di opinioni su alcuni punti in particolar modo abbiamo visto il problema della competenza o come vedremo anche il problema dell'indipendenza del magistrato onorario dovrebbe indurre il Parlamento a porre maggiore cura e maggiore attenzione nella redazione della legge delega perché naturalmente quando parliamo del meccanismo della delegazione del potere legislativo delegato una legge delega che nasce viziata non può che riversare i suoi difetti poi nella normativa di attuazione permesso questo in termini molto generali e passando adesso a quello che è più il contenuto del mio intervento anticipo subito che saranno riflessioni soprattutto focalizzate sulla giustizia penale sull'amministrazione della giustizia penale in particolar modo su due piani riprenderò il problema degli obiettivi che sono perseguiti da questo progetto di riforma e poi vorrei svolgere qualche considerazione adesiva rispetto a quanto già detto o integrativa con riferimento alla riorganizzazione dell'ufficio del giudice di pace e all'articolazione alla nuova articolazione denominata ufficio dei vice procuratori onorari presso la procura della repubblica e poi relazioni ai compiti alle funzioni che vengono ridisegnate tanto del magistrato giudicante quanto del magistrato requirente sugli obiettivi si è già detto ieri e parlo della giurisdizione in questo caso penale del giudice di pace non analoghe considerazioni ma solo in parte le considerazioni che faccio adesso valgono per le altre figure onorarie GOA e GOT per intenderci secondo gli acronomi che tutti noi conosciamo si è visto ieri che la giurisdizione del giudice di pace quando è stata attivata nel 2000 aveva una scommessa sullo sfondo si scommetteva si è detto più volte su una giustizia penale in questo caso di prossimità e conciliativa la prossimità doveva essere garantita da una vicinanza degli uffici una distribuzione capillare degli uffici sul territorio dal tipo di reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace lo diceva il professor Picotti prevalentemente micro conflittualità individuale e la giustizia conciliativa lo ricordava ieri il professor Brunelli doveva essere assicurata attraverso un sistema penale dal volto mite che punta sulla conciliazione su rimedi esiti meglio epiloghi del processo all'epoca inediti condotte riparatorie attività del fatto e poi sul sistema sanzionatorio non carcerocentrico a fianco a questa ambizione c'era naturalmente già allora l'esigenza di un efficientamento del sistema della giustizia perché è ovvio che attribuendo una competenza penale al giudice di pace questo voleva dire alleggerire naturalmente la magistratura togata la riforma attuale direi che di queste ambizioni mantiene l'hanno detto tutto e mi sento di confermarlo solamente l'attenzione per l'efficientamento della giustizia della magistratura togata tra l'altro perché il punto è questo è stato ampiamente detto si guarda una maggiore efficienza della magistratura professionale scaricando tutto sulla o tutto comunque importanti competenze civili e penali sulla magistratura onoraria senza che questa sia dotata a sua volta di strumenti di ausilio quindi è un'operazione molto chiara non a caso insomma quando si è parlato ieri di giudice di ufficio del processo qualcuno giustamente ha detto non è un ufficio del processo ma è un ufficio del giudice perché chiaramente ha supporto del magistrato professionale il dossier del senato è chiarissimo da questo punto di vista ci sono tre passaggi che mi sono letta che sono stati illuminanti dei passaggi dove si spiegano le aspettative che ha il governo o comunque il Parlamento da questa riforma si parla di aumento della produttività da parte dei magistrati professionali di ragionevole durata del processo quindi contrazione dei tempi processuali e si dice anche questa cosa mi ha fatto un po' sorridere ma non va dimenticato che la riforma dovrebbe dare un supporto anche dal punto di vista dell'evoluzione tecnologica dell'applicazione delle tecnologie nel processo perché sta per partire il processo telematico civile obbligatorio e sta anche per partire l'informatizzazione del processo penale traducendo i magistrati professionali normalmente sappiamo non sono di giovanissima età sono obsoleti rispetto alle nuove tecnologie quindi occorrono anche risorse nuove in particolar modo gli stagisti e i tirocinianti nella fase della sperimentazione per dare un supporto anche da questo punto di vista non è molto edificante perché di funzione giurisdizionale da questo punto di vista resta come possiamo dire praticamente nulla se questi sono gli obiettivi mi permetto di essere pessimista sul raggiungimento degli obiettivi perché una riforma del genere credo che non potrà risolvere il problema della contrazione dei tempi della giustizia e della ragionevole durata anzitutto perché tanto nel civile quanto nel penale la ragionevole durata del processo va calibrata sull'intero processo quindi abbiamo un problema che è quello del giudizio in cassazione che riguarda tanto il civile quanto il penale che rappresenta uno degli elementi che protrae la durata del processo abbiamo una cassazione assediata letteralmente assediata da ricorsi e qui non a caso ci sono tra i vari progetti in corso anche dei progetti sulla riforma delle impugnazioni se poi guardiamo il procedimento penale c'è una cosa che viene dimenticata anche qui la ragionevole durata viene sottovalutata perché si parla di ragionevole durata del processo ma in realtà bisogna contemplare nel valutare la durata il tempo del processo anche la fase procedimentale la fase delle indagini preliminari e questo lo conferma una sentenza della Corte Costituzionale una declaratoria di incostituzionalità di pochissimo tempo fa è la 184 del 2005 che dice espressamente che ai fini della legge Pinto in ossecchio tra l'altro ai dettami che vengono dalla Corte Europea va calcolata anche la fase delle indagini quantomeno la fase che segue la conoscenza formale dell'accusa perché dico questo perché noi sappiamo che se guardiamo anche a questa fase la fase delle indagini la durata delle indagini delle investigazioni durata eccessiva che tra l'altro comporta spesso anche un altro effetto tipico del penale che è la prescrizione del reato dipende prevalentemente da fattori che non possono essere risolti con questa riforma dipende da un numero enorme di notizie di reato e dipende da scarsissime risorse non solo nella magistratura requirente ma anche nelle forze dell'ordine polizia polizia giudiziaria che normalmente fonge da lunga manos del pubblico ministero quindi se questi sono i diciamo i grandi temi credo che questo tipo di riforma sì forse può costituire un pagliativo un primo passo diciamo così a voler essere positivi ma sicuramente lascia sul tappeto le maggiori problematiche prima fra tutti quella appunto che ci servono servono in generale a risorse finanziarie adumane aggiuntive oltre a che probabilmente anche una forte depenalizzazione per contrarre l'area del penamento rilevante se vogliamo ridurre il numero delle notizie di reato probabilmente una strada potrebbe dovrebbe essere anche quella vediamo invece adesso qualche qualcuno di questi criteri direttivi che sono indicati nella legge delega per la riforma con riferimento ai temi che ho evidenziato ha osservato precedentemente l'assessore a mio avviso correttamente che i criteri direttivi sono molto ampi sono laschi diciamo questo può essere da un certo punto di vista positivo perché c'è una ampia discrezionalità che viene lasciata al governo nel momento in cui manerà i decreti attuativi c'è però un rischio in alcuni ambiti è stato ben sottolineato dalla dottoressa Giatti in alcuni ambiti i criteri sono talmente generali da porre dei problemi di costituzionalità l'esempio della competenza dei criteri individuati per l'estensione della competenza civile è perfettamente calzante perché si individuano come è stato poco fa evidenziato dei criteri che non guardano all'oggetto della competenza ma l'estensione di competenza in alcuni ambiti soprattutto procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di successione e comunione in materia di diritti reali dicevo in questi ambiti si introduce un criterio che è quello appunto della minore complessità istruttoria decisoria che naturalmente non può essere come dire valutato ex ante però noi sappiamo che la competenza il tema della competenza è governato da un principio costituzionale il principio del giudice naturale precostituito per legge e questo principio esige norme chiare criteri prestabiliti questo tipo di criterio penso che sia difficilmente attuabile dal legislatore delegato e se venisse trasposto tale quale nella legge nell'eventuale decreto attuativo secondo me sarebbe radicalmente incostituzionale quindi quanto suggerito prima la necessità di chiarire meglio o precisare questo criterio trova diciamo conferma e trova adesione da parte mia probabilmente uno degli aspetti su cui occorre sollecitare il Parlamento per una revisione per quello che riguarda invece in maniera specifica dicevo i criteri di riorganizzazione degli uffici forse è stato detto non mi ricordo se è stato spiegato nel dettaglio che in questa legge delega si prevedono due tipi di riorganizzazioni per la magistratura giudicante diciamo così si prevede si prevedeva perché poi l'emendamento che è stato introdotto non è chiarissimo su questo che tutti i magistrati onorari esistenti i goa i gote giudice di pace confluissero tutti nel medesimo ufficio del giudice di pace che rimane o dovrebbe rimanere un ufficio distinto dal tribunale quindi un ufficio giudiziario a sé stante anche se coordinato dal presidente del tribunale con la nuova denominazione giudice onorari di pace a questo punto dovremmo parlare di gop non più di got o sigle simili sul versante delle procure come anticipato il professor Picotti si prevede l'istituzione di un ufficio dei vice procuratori onorari all'interno della procura perché queste operazioni possono far sollevare dei problemi o ci inducono a delle riflessioni perché ci sono secondo me dei problemi in termini di poca chiarezza soprattutto sul versante degli organi giurisdizionali ci sono dei problemi di poca chiarezza perché se guardiamo vediamo se riusciamo a recuperarlo il testo iniziale il testo iniziale vi dicevo prevedeva una confluenza di tutti i magistrati onorari all'interno dell'ufficio del giudice di pace invece successivamente quando vi è stato un emendamento nei corsi dei lavori preparatori si è aggiunto un riferimento salvo quanto previsto dal comma quinto un riferimento che introduce degli elementi di ambiguità perché nel comma quinto invece si parla di magistrati onorari che vengono inseriti nell'ufficio del processo quindi sembrerebbe che con questo emendamento non vi sia la confluenza dei magistrati onorari tutti all'interno dell'ufficio del giudice di pace ma alcuni sembrerebbero confluire nell'ufficio del giudice di pace altri all'interno invece di questo ufficio del processo quindi io mi chiedo dov'è il rapporto organico con quale ufficio con l'ufficio del giudice di pace o con l'ufficio del tribunale questo è un aspetto che va chiarito sicuramente e rispetto a questo aspetto forse va anche chiarita meglio la funzione di coordinamento che dovrebbe avere il presidente del tribunale ma al di là di questo aspetto di poca chiarezza io penso che i problemi maggiori riguardano i compiti che sono stati attribuiti alla magistratura o l'oraria requirente e giudicante rispetto ai compiti soprattutto come vedremo rispetto alle funzioni delegate ci sono degli aspetti dubbi o comunque che suscitano delle perplessità e queste criticità come vedremo riguardano a mio avviso e in parte sono già state evidenziate sempre la figura degli organi giurisdizionali i problemi sono minori per quanto riguarda la figura dei vice procuratori onorari perché sappiamo che le procure sono costruite al loro interno da sempre sulla base di una struttura gerarchica l'indipendenza del pubblico ministero è un'indipendenza istituzionalmente attenuata è un'indipendenza verso l'esterno ma non all'interno dell'ufficio dove abbiamo appunto un ufficio strutturato in base a criteri strettamente gerarchici tra l'altro la riforma dell'ordinamento giudiziario del 2006 ha rafforzato questa struttura gerarchica tanto da prevedere in alcuni casi l'obbligo di un consenso scritto del capo dell'ufficio per adottare determinati provvedimenti penso ai provvedimenti in materia cautelare e addirittura è stata prevista la possibilità da parte del capo dell'ufficio di revocare l'assegnazione di singole indagini quindi non è strano che ci sia una struttura gerarchica e che venga mantenuta all'interno della legge delega in questo particolare ambito perché questa è la fisionomia naturale diciamo dell'ufficio del pubblico ministero non vuol dire che non vi siano problemi rispetto a questo ambito però perché a mio avviso i problemi nascono nella parte in cui vengono descritte le funzioni dei VPO e in particolar modo nella parte in cui si descrivono le funzioni che possono essere delegate ai VPO da parte dei magistrati togati anche per il vice procuratore onorario è prevista infatti naturalmente come per il futuro giudice onorario la necessità di adempiere a compiti di supporto del magistrato professionale quindi funzioni non giudiziarie vuol dire attività preparatorie ricerche giurisprudenziali redazione diminuta insomma attività che evidentemente non ha funzione giudiziaria e si è prevista la possibilità appunto di delegare singole funzioni invece sì giudiziarie ai VPO la delega peraltro non è nuova questo è un istituto che c'è già nell'ordinamento giudiziario all'articolo 72 la legge delega in questione però introduce un elemento di novità perché parla e qui ci servono davvero i testi di legge di una necessità del VPO di compiere i provvedimenti e le attività che possono essere delegate appunto dai togati per la loro semplicità e la non elevata pena editale ovviamente questo limite ci attendiamo che venga individuato dal decreto attuativo si prevedono però dei limiti alla delega in particolare si dice non possono essere delegate salvo tipologie di reati da individuare specificatamente anche in considerazione della modesta offensività dicevo non possono essere delegati tre tipi di atti la richiesta di archiviazione che di fatto è l'atto con cui il procuratore si sottrae all'obbligo di esercitare l'azione penale costituzionalmente previsto la determinazione relativa all'applicazione della pena su richiesta delle parti quindi le decisioni in materia di patteggiamento il che mi può far dire che è un criterio che può valere laddove il patteggiamento si è chiesto nelle indagini preliminari quindi siamo nell'udienza ai sensi dell'articolo 447 ma quando il patteggiamento è fatto in udienza e sappiamo che in udienza il VPO ha autonomia cosa vuol dire che il VPO non può adottare questo tipo di decisione non è chiaro il collegamento e il rapporto e penso che siano aspetti che vanno chiariti e inoltre si stabilisce ancora che non possa essere delegato l'adozione di provvedimenti e di esercizio dell'azione penale che naturalmente l'azione penale sappiamo che è il potere che rappresenta l'emblema del potere del pubblico ministero però anche qui c'è un problema perché se leggiamo l'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario prevede invece che possono essere delegate specifiche funzioni e tra queste anche la richiesta di decreto penale di condanna che tradizionalmente è annoverata tra gli atti d'esercizio dell'azione penale io quindi non riesco a capire leggendo se questo tipo di norma intende abrogare completamente l'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario oppure se poi una volta che dovesse entrare in vigore il decreto attuativo l'interprete deve come dire avventurarsi in interpretazioni per andare a vedere se vi è stata un'abrogazione implicita di alcune parti io credo che su questi aspetti occorra chiarezza non si può lasciare tutto a appunto un'interpretazione complicata su quali atti posso delegare oppure no soprattutto quando parliamo di atti appunto dietro a quale vi è l'esercizio del potere punitivo dello Stato come l'atto di esercizio dell'azione penale sulla figura degli organi giudicanti invece ricordiamoci che con la riforma l'ufficio del giudice di pace così composto con questi nuovi magistrati che dovrebbero confluire manterrà la sua competenza salvo di penalizzazioni ma è previsto anche la possibilità di attribuire a questi giudici onorari e gopi in futuro anche funzioni giurisdizionali all'interno dell'ufficio del tribunale attraverso il meccanismo dell'applicazione al collegio che già esiste e anche attribuendo processi la trattazione di procedimenti in modo autonomo purché viene chiarito e qui sì che c'è un richiamo all'ordinamento giudiziario l'articolo 43 non si tratti di procedimenti diversi da quelli di cui l'articolo 550 del codice di procedura penale in breve deve trattarsi di procedimenti di competenza del tribunale monocratico con citazione diretta dicevo il problema principale riguarda non tanto l'attribuzione di questi compiti quanto ancora una volta gli atti delegati perché si prevede appunto che il giudice onorario che dovrebbe essere adibito a questo ufficio del processo del giudice come lo vogliamo chiamare possa essere destinatario di delega per specifici attività e provvedimenti anche qui individuate da individuarsi deve trattarsi però di attività e provvedimenti delegabili per la loro semplicità ancora una volta per la semplicità delle questioni da risolvere e per la natura degli interessi in gioco la delega il meccanismo della delega è un meccanismo noto quello che a me veramente ha fatto rizzare i capelli in testa che si prevede è già stato detto ampiamente che nel dare la delega il giudice professionale dia delle direttive delle direttive da seguire nell'adempimento dell'attività e nell'adozione del provvedimento delegato allora credo che il concetto di direttiva sia calzante sia pienamente aderente come dicevo alla struttura dell'ufficio del pubblico ministero ma parlare di direttive da parte del magistrato professionale rispetto al magistrato togato comporti una conseguenza che è quella di fare venire meno o comunque incidere fortemente su quella che è l'indipendenza del magistrato onorario anche per chi ha chiarito che il magistrato onorario ha il dovere di seguire le direttive ricevute se ritiene che non vi siano le condizioni per adempere alle direttive deve semplicemente chiedere al magistrato professionale di emanare lui il provvedimento quindi direttive vincolanti salvo la possibilità di sottrarsi dal complimento dell'atto per me implicano una lesione forte al principio dell'indipendenza del giudice tra l'altro non ho ben capito come eventuali situazioni come il rifiuto di compiere l'atto per appunto nell'ipotesi in cui si ritenga che non vi sono le condizioni per attempere le direttive debba essere possa essere valutato addirittura poi ai fini della conferma dell'incarico perché nella conferma ai fini della conferma dell'incarico ogni 4 anni c'è anche una valutazione dell'ufficio del consiglio giudiziario ma anche una valutazione del credo del presidente del tribunale se correggetemi se sbaglio che probabilmente potrebbe anche tener conto di situazioni di questo tipo rispetto meno delle direttive io credo davvero che questo sia un problema serio dal punto di vista dell'indipendenza ci sarebbero altre cose da dire perché la legge è complessissima anche sotto altri punti di vista io mi fermerei qui perché credo di aver quasi esaurito il tempo che mi era stato dato a disposizione mi riserverei però se c'è bisogno in un secondo momento di fare altri approfondimenti se ne abbiamo il tempo e la voglia vi ringrazio per l'attenzione grazie Gabriella per questa tua relazione davvero così puntuale e molto molto precisa i processualisti hanno sempre da insegnarci sul piano della specificità ecco ecco non solo battuta sono sempre d'accordo con te certamente credo che nel meccanismo legge di delega e decreto delegato ci stia tutto insomma il potere di specificare le clausole generali come quella della semplicità delle questioni con naturali interessi coinvolti speriamo perlomeno così era avvenuto anche nella delega sul decreto legislativo 274 e poi ci sono elencati i reati in concreto stabilite le sanzioni sostituibili sono d'accordo su questo sono criteri di delega quelli invece il problema è l'attribuzione della competenza lo diceva prima la facilità la semplificazione la semplicità istruttoria e decisoria come criterio di competenza soggettiva si però dico il decreto delegato può ben precisare gli ambiti di competenza con delle limitazioni e poi sul discorso delle direttive direi che se si parla di direttive generali cioè non è che da quel che si può intendere anche qui il decreto legislativo delegato dovrebbe essere più preciso però un conto è che il magistrato che delega dia una direttiva sul caso concreto quello che chiaramente viola l'indipendenza ma se ci sono delle direttive generali come dice la norma entro il cui ambito il giudice onorario si deve attenere rispettamente dei compiti e quando non ricorrono nel caso concreto dice invece può chiedere l'indipendenza quindi in realtà ci possono essere un doppio livello insomma cioè direttive generali per esercitare la delega in certi settori non so nel penale chiedere il decreto penale quando c'è oppure chiedere o in manale se c'è il decreto penale entro certi limiti è un conto di dire do una direttiva sul caso concreto io credo che ci possa essere un'articolazione che non viva l'autonomia della magistratura se appunto sono direttive generali forse non mi sono spiegata bene la direttiva nell'ambito dell'ufficio della procura va benissimo quindi l'esempio che tu hai fatto in questo momento richiedere un decreto penale è un altro discorso quando però parliamo di direttive generali riferite all'organo giudicante facciamo un esempio un soggetto cui viene delegato l'emanazione di un certo tipo di provvedimento quindi che esercita una funzione giurisdizionale potrebbe esserci una direttiva dove si dice per i reati di questo tipo una direttiva generale applicare una pena che non sia inferiore ai 4 anni è una direttiva generale questa però non andrebbe a ledere in qualche modo l'indipendenza e tra l'altro il buon funzionamento nel concetto di direttiva generale si tratta di capire che cosa si inserisce se il riscarlo concreto però ritiene che non ci siano le condizioni per applicarla appunto la rimette il giudice titolare se ritiene che ci siano le condizioni per applicarla lo ritiene autonomamente c'è un margine di compatibilità con la valutazione autonoma cioè nell'ambito in cui dico il caso concreto può rientrare in quella direttiva generale bene mi attengo e decido io secondo me in quel caso concreto non si applica la direttiva generale allora rimetto il giudice pare che sia sempre una valutazione che alla fine il magistrato fa il modo autonomo posso dire una valutazione in secondo grado lasciamo il dibattito no 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 altrimenti si alleggia finisce lì sono due che giudicano lo stesso di fatto una doppia valutazione nel caso concreto una doppia valutazione c'è una prima valutazione che ritiene la cosa non inquadrabile in quella cioè diventa delicata nel senso nel caso concreto questa non applicazione implica una doppia valutazione sul caso concreto anche questa come dire con una sovrapposizione si presume che la direttiva generale sia data a inizio anno periodicamente io credo che invece il magistrato l'onorario gradisca queste direttive generali secondo me io so che c'è stata un'esperienza anche qui a livello di esercimento danni morali non c'è un accordo per stabilire direttive interne sono gradite dopo uno se vuole si discosta in questo caso ci sono dei binari generali in cui se il giudice ritiene che gli conviene e ci può stare li applica se no saranno così tassative ci sarà direttive generali sono direttive sono una decisione e se non vuole si discosta e rimanda non c'è un grosso palleggiamento perché la direttiva generale c'è già aborigine all'inizio d'anno poniamo all'inizio periodo il giudice onorario nel caso concreto se ritiene che ricorre le circostanze la applica se ritiene di no la manda al delegante quindi non è che poi ritorna lui di nuovo l'applica direttamente vorrei dire una cosa semplifica se posso si prego dice sul campo bisogna capire cosa si intende con la parola direttiva perché se la direttiva è un confronto su un orientamento univoco da dare di fronte a una determinata casistica ben venga perché noi nel nostro ufficio lo facciamo noi ci riuniamo regolarmente si discute ci si confronta e si decide per quanto possibile diamo questo orientamento perché ripeto noi opposizione al codice della strada adesso ce ne hanno presentate tantissime transito nella ZL ok e lì si è aperto tra noi colleghi un dibattito per non avere la situazione dove che ricorrente tizio radica dal giudice x e il ricorso viene accolto poi radica dal giudice y un altro ricorrente magari il ricorso viene rigettato quindi secondo me è importante il concetto di direttiva bisogna che ci intendiamo su cosa si intende con la parola direttiva chiaro che se vuole andare indirizza ma non è che vincola è chiaro che indirizza per quanto possibile per quanto possibile nel rispetto di quello che ha detto la giudice può non applicarla se gli ucci ritieni in un caso concreto non ricorrono le condizioni per provvedere in conformità alla direttiva però professore bisogna stare attenti non puoi bisogna vedere quando si sente libero di non applicarla stiamo parlando non dell'attività giudiziaria come dire aborigine di competenze ma di quella delegata non è che aptica rimette il delegante ma il punto è che non ha la possibilità di disattendere io credo che se è un un conto non è una direttiva un consiglio un suggerimento su un orientamento da seguire rispetto al quale il giudice ha libertà o meno di seguire diciamo così il criterio indicato ma le direttive di cui stiamo parlando sono vincolanti perché non può disattenderla l'unica cosa che può fare non può applicare un criterio diverso dalla direttiva generale data l'unica cosa che può fare è non liquid io non decido e rimetto ma lo so è piena l'autonomia in questa situazione che non ci sia però è un'opinione mia personale siccome sono naturalmente visioni diverse io mi sentirei le visioni diverse vabbè entrò nell'ambito sull'attività delle gatti comunque purtroppo il tempo stringe quindi dobbiamo passare agli ultimi due grazie che dovrebbero anche di questi contributi ulteriori Flavio Guella è nella materia al tavolo si potete restare non tutti non andrò via si ecco allora do subito la parola al dottor a dottor Flavio Guella che grazie mille grazie ringrazio anch'io gli organizzatori di questo invito che mi fa molto piacere e arrivo subito a smorzare il dibattito perché il tema del mio intervento non è tanto sui profili più sostanziali che abbiamo sentito fino ad ora ma è sul profilo istituzionale un'ottica di diritto regionale su questo disegno di legge e quindi al centro della mia attenzione c'è l'autonomia l'autonomia regionale quindi ringraziamento anche alla regione Trentino Alto Adige che promuove questa iniziativa ma il profilo contenutistico sul ruolo del giudice di pace non è estraneo alla valutazione del ruolo della regione perché è il presupposto il presupposto del ruolo dell'autonomia il giudizio di prossimità l'effettiva l'effettiva natura di prossimità della giustizia affidata al giudice di pace è la razza dell'attribuzione all'autonomia regionale di queste competenze sul piano organizzativo la vicinanza al territorio quindi il radicamento territoriale non solo organizzativo ma deve deve essere anche presente nella funzione nella funzione di questi magistrati onorari quindi l'attenzione principale io l'ho dedicata alla clausola di salvaguardia evidentemente anche in questo disegno di legge è stata inserita una clausola di salvaguardia che conosciamo bene nella legislazione nazionale vengono aggiunte spesso appunto a salvaguardia della specialità degli ordinamenti delle regioni speciali e anche questa clausola di salvaguardia si organizza in due commi in due parti come spesso accade una parte sostanziale una parte procedimentale da una parte il primo comma che esclude sostanzialmente l'applicabilità della normativa prevista in questo disegno di legge quando questa normativa non è compatibile con gli statuti normativa di attuazione una seconda parte della clausola di salvaguardia il comma secondo che invece ammette l'emanazione di ulteriori disposizioni finalizzate ad armonizzare l'ordinamento speciale della regione Trentino Alto Adige in materia di giustizia e di spazio con le evoluzioni che saranno eventualmente portate da questo disegno di legge quindi un primo livello in negativo dove escludiamo l'applicabilità di questa riforma alla regione Trentino Alto Adige cosa possiamo o dobbiamo escludere verrà applicato in via diretta di questo disegno di legge nella regione Trentino Alto Adige e un secondo livello invece in positivo quali sono le direttrici per un'armonizzazione dell'ordinamento speciale della regione Trentino Alto Adige le direttrici che dovranno essere seguite per adeguarsi alle indicazioni di questo disegno di legge alle novità della riforma senza sacrificare i livelli di autonomia raggiunti in precedenza attraverso la legislazione regionale autonomia che appunto si fonda sul concetto di prossimità e sulla competenza sull'organizzazione sui servizi attinenti alla giustizia di pace quindi alla base di tutto ci deve essere una valutazione di compatibilità tra la riforma e l'ordinamento speciale vigente una valutazione di compatibilità che mi pare sostanzialmente si articola attorno ai profili organizzativi e su questo io distinguerei subito la dipendenza funzionale del personale amministrativo strumentale agli uffici di giudice di pace dove si deve ragionare su chi sia il coordinatore del personale amministrativo affidato al servizio della giustizia di pace e invece il coordinamento di cui parla il disegno di legge il coordinamento affidato al presidente del tribunale che è altra cosa ma questo lo vediamo subito è intuibile prima cosa da valutare invece è lo stato dell'arte qual è lo stato della normativa regionale in materia di giustizia di pace cosa ci garantisce perché la clausola di salvaguardia non fa un rinvio generale alla normativa regionale evidentemente è garantibile dalla clausola di salvaguardia soltanto quello che confluisce in statuto in normativa di attuazione non ciò che è in legge regionale e la norma di attuazione non ci non ci non ci porta non ci non ci attribuisce una tutela forte formalizzata di una figura di giustizia di prossimità perché questo è dato per presupposto sostanzialmente è un rinvio che la norma di attuazione fa alla riforma che ha introdotto il giudice di pace nel 91 e è dato per presupposto la norma di attuazione parla di dipendenza funzionale e non di ruolo autonomo del ufficio del giudice di pace questo è un presupposto che la norma di attuazione dava per scontato non abbiamo un aggancio testuale forte per considerare l'autonomia dell'ufficio del giudice di pace da un eventuale coordinamento da parte del presidente del tribunale come coperto dalla specialità dell'autonomia del Trentino Alto Adige incidentalmente però l'uso della figura del giudice di pace coordinatore è rilevante è rilevante come strumentale alla gestione diretta di prossimità del personale amministrativo della regione che è affidata a questa funzione di interesse regionale in quanto legata a una giustizia di prossimità e qui ci potremmo chiedere ma è un rinvio recettizio quello che è stato fatto dalla norma di attuazione che si riferisce alla riforma del 91 potremmo anche dire di sì ma non so se questo è così rilevante per tutelare l'ufficio del giudice di pace rispetto a una funzione di coordinamento del presidente del tribunale perché questa non era la razio con cui la figura del giudice di pace coordinatore è stata citata dalla normativa di attuazione quindi lo Stato lo Stato dell'arte a livello di disciplina speciale della regione Trentino Alto Adige ci fa considerare come sicura ben fondata esplicita la tutela dell'autonomia dell'ufficio di giudice di pace nella parte in cui prevede una dipendenza funzionale del personale strumentale del servizio amministrativo in diretta dipendenza dell'ufficio del giudice di pace non invece nel costruire un'autonomia dell'ufficio del giudice di pace da altre funzioni di coordinamento che eventualmente oggi si vogliano introdurre e la legislazione regionale peraltro conferma gli agganci ulteriori nella legislazione regionale pur non rilevanti ai fini della normativa di attuazione non sarebbero comunque dirimenti quali sono quindi le prospettive del disegno di legge che possono venire a incidere su questo tessuto di normativa di attuazione questa normativa di attuazione rivolta al piano organizzativo amministrativo in modo prioritario può comunque essere come dire essere aggredita da un'applicazione diretta del disegno di legge della riforma che in assenza di clausola di salvaguardia potrebbe arrivare a mettere in dubbio anche le competenze regionali di diretta dipendenza del personale amministrativo perché l'articolo 5 del disegno di legge attribuisce al presidente del tribunale non soltanto il coordinamento del personale di magistratura ma anche del personale amministrativo anche del personale amministrativo da questo punto di vista la previsione della clausola di salvaguardia è stata indispensabile un elemento necessario nel disegno di legge perché non sia contestabile lo stato di gestione attuale del personale regionale quindi certamente la clausola di salvaguardia ci tutela dall'applicabilità diretta dell'inciso ed amministrativo previsto al primo comma dell'articolo 5 perché contrasterebbe direttamente con la normativa di attuazione e anche su questo c'è un profilo interessante perché la disciplina sul ruolo di coordinamento del presidente del tribunale è introdotta sia come criterio direttivo del disegno di legge di delega sia in un articolo specifico nell'articolo 5 quindi c'è una portata direttamente applicabile immediatamente precettiva del ruolo che il presidente del tribunale può assumere altrimenti non ci spieghiamo questa doppia previsione questa doppia previsione quindi permane potenzialmente la dipendenza potenzialmente permane necessariamente la dipendenza funzionale del personale amministrativo regionale dedicato agli uffici del giudice di pace ma il ruolo di coordinamento il ruolo di coordinamento della funzione giurisdizionale svolto dal presidente del tribunale può venire a incidere anche sull'autonomia regionale in modo in modo indiretto anche il coordinamento della funzione giurisdizionale deve quindi essere relativizzato per una tutela ampia dell'autonomia speciale in questa materia e qui a questo riguardo torna a essere rilevante la distinzione dei due piani della normativa di salvaguardia un piano immediato di esclusione dell'applicabilità immediata delle disposizioni in diretto contrasto con lo statuto della normativa di attuazione un piano invece propositivo pro futuro di adeguamento armonizzazione dell'ordinamento speciale della regione Trentino Alto Adige con le direttrici della riforma ecco sulla base del primo livello del primo livello quello dell'esclusione dell'applicazione della riforma alla regione Trentino Alto Adige possiamo considerare sufficiente la non applicazione del ruolo di coordinamento del Presidente del Tribunale anche al personale amministrativo oppure è possibile ottenere anche altro mantenere come dire estendere la specialità delle competenze della regione Trentino Alto Adige anche a una figura di giudice onorario di pace che è più ampia di quella conosciuta in passato quindi non escludere semplicemente l'applicazione della riforma evidentemente ma coordinare l'ordinamento speciale della regione in materia di giustizia e di pace con i nuovi spazi previsti da questo disegno di legge e mi pare che da questa riforma facendo un bilancio gli spazi per maggiore autonomia non mancano non mancano intanto per l'aumento delle competenze evidentemente il giudice di pace come congegnato in questo disegno di legge di delega è un giudice di pace con competenza su materie ulteriori e con questa più ampia competenza per materia la regione Trentino Alto Adige acquisisce competenza su come dire su un servizio di prossimità ai cittadini che diventa più ampio e più significativo questo sarebbe banale e ritorna poi invece in tema di di eguaglianza dei cittadini il secondo profilo molto più interessante per la regione Trentino Alto Adige è invece l'estendere il il potere di proposta sulle nomine dai giudici di pace semplicemente intese anche a quelli che erano i GOT sostanzialmente o a quelli che erano i WPO e su questo la problematicità di un'applicazione diretta della normativa di attuazione è comunque presente perché il dato testuale il dato testuale della norma di attuazione parla di magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace però questa difficoltà testuale non è certamente maggiore di quella che si è superata comunque nel passaggio dal giudice conciliatore al giudice di pace quindi un'estensione della competenza del potere di proposta del presidente della regione anche alla magistratura ordinaria di nuovo tipo è senz'altro prospettabile come è stato prospettabile in passaggio il passaggio da una competenza sul giudice conciliatore al giudice di pace e quindi aumento delle competenze e integrazione nell'ufficio per il processo delle nuove figure di giudice onorari sicuramente possono accompagnare una maggiore un maggiore ruolo della regione nell'esercizio dell'autonomia su questa materia specifica mentre un profilo di possibile criticità evidentemente è dato dall'inserimento del giudice onorario di pace nell'ufficio del processo quindi alle dipendenze del presidente del tribunale quindi un ruolo di dipendenza che può ridurre l'autonomia funzionale dell'ufficio del giudice di pace può renderlo può staccarlo da questa prossimità con il territorio ma che d'altra parte può anche costituire un momento di legittimazione un momento di potenziamento di maggiore legittimazione tecnica che evidentemente è lasciato poi alle prassi applicative che si verranno a determinare eccetera su cui quindi la regione forse scarso margine di incidenza potrà avere da questo punto di vista mi pare che è difficile ipotizzare una non estensione del coordinamento da parte del presidente del tribunale ai giudici di pace presenti in Trentino Alto Adige con una portata della clausola di salvaguardia che mantenga separati i due ruoli su questo le osservazioni che faceva la dottoressa Di Paolo in precedenza sulla presenza di un ufficio del giudice di pace distaccato o non distaccato dall'ufficio del processo sono senz'altro rilevanti poi al momento di approvare una nuova normativa di attuazione regionale perché la possibilità di mantenere distaccato il ruolo del giudice di pace che svolge la funzione effettivamente giudice un orario di pace che svolge effettivamente la funzione di giudice di pace da quello che è la funzione degli ex got eccetera è un ambito nel quale la normativa di attuazione potrebbe eventualmente muoversi mantenendo separati questi ruoli ma qui ci sono delle criticità evidenti una normativa di attuazione che volesse seguire questa direttrice potrebbe muoversi su questi binari rinunciando a estendere l'autonomia della regione anche al potere di proposta sugli altri giudici onorari che collaboreranno in modo più stretto nell'attività del tribunale e soprattutto questa normativa di attuazione ha un limite non superabile nel momento in cui si ampliano le competenze del giudice di pace e questo evidentemente deve essere uniforme su tutto il territorio nazionale e quindi l'ipotesi più diretta più immediata di attuazione successiva posta questa prima parte della clausola di salvaguardia che nell'immediato tutela unicamente la dipendenza del personale amministrativo dal giudice di pace e non un particolare tipo di coordinamento del presidente del tribunale sul giudice di pace che inevitabilmente si riflette anche sul personale regionale ad esso affidato l'ipotesi di attuazione più favorevole per l'autonomia regionale va nella direzione invece della distinzione del coordinamento funzionale del presidente del tribunale dal coordinamento amministrativo sul personale della giustizia di pace e questa direzione di distinzione tra funzione dei servizi attinenti alla giustizia e esercizio effettivo della funzione giurisdizionale si lega strettamente alla prospettiva l'altra prospettiva in corso di discussione attualmente che è quella della delega generale in materia di giustizia di cui gode la regione Trentino-Alto Adige dalla legge di stabilità 2014 e poi nell'ambito dell'accordo di Roma di terza modifica della parte finanziaria dello statuto alla regione Trentino-Alto Adige è stata delegata in via generale la possibilità di assumere la delega sulle funzioni amministrative e organizzative di supporto riguardanti la giustizia civile penale minorile con esclusione di quelle relative al personale di magistratura quindi una delega in corso di definizione su cui la commissione paritetica ha già predisposto delle bozze che è una delega che ha ragioni evidenti con fondamento fiscale la regione o eventualmente le province autonome in subdelega si assumono l'onere finanziario di questo settore di questo servizio attinente alla giustizia e sgravano l'erario di una parte di costi che non sono corrisposti invece a una riduzione delle entrate proprie della regione delle province autonome questa che è una delega predisposta a evidenti fini erariali tutela dell'erario lascia comunque degli spazi ampi di sviluppo delle salvaguardie per l'autonomia speciale del Trentino Alto Adige anche nel settore della giustizia di pace nel momento in cui la norma di attuazione prefigurata dal comma secondo dell'articolo 7 di questo disegno di legge possa eventualmente coordinarsi con un'attuazione della delega più generale in materia di servizi attinenti alla giustizia che preveda un doppio canale di coordinamento un coordinamento della funzione giurisdizionale affidato al presidente del tribunale un coordinamento più sensibile all'autonomia regionale di tutto il complesso dei servizi attinenti alla giustizia e quindi una direzione di attuazione di queste due deleghe sostanzialmente che tenga conto della necessità di affidare al magistrato singolarmente la dipendenza funzionale il magistrato coordinatore del giudice di pace che è una figura che può perdurare nell'autonomia speciale del Trentino Alto Adige a questi fini già contemplati dalla norma di attuazione affidare appunto la dipendenza funzionale del personale che è un personale che rimane regionale a tutti gli effetti e introdurre figure di coordinamento istituzionalizzato tra i dirigenti regionali che preposti alla gestione del personale della magistratura di pace a questo punto ma anche della magistratura ordinaria al momento dell'attuazione della seconda delega che vi citavo con il presidente del tribunale quindi da questo punto di vista da questo punto di vista gli spazi per un'attuazione del comma secondo della clausola di salvaguardia sono ampi sono ampi e possiamo articolarli su almeno tre livelli di ipotesi un minimo di salvaguardia che è quello che vi citavo all'inizio che è imprescindibile e destinato a preservare la dipendenza funzionale del personale regionale affidato agli uffici del giudice di pace alla giustizia di prossimità perché non sia pensabile che il presidente del tribunale disponga attraverso il suo coordinamento introdotto da questo disegno di legge del personale regionale dedicato alla giustizia di prossimità a fini generali ulteriori e diversi e quindi la figura del giudice di pace e coordinatore come già prevista dalla normativa di attuazione vigente come oggetto stretto di questa clausola di salvaguardia il massimo della salvaguardia ipotizzabile che vi citavo è invece aderire a una possibile nuova norma di attuazione che mantenga i ruoli separati mantenere il ruolo separato per un giudice di pace cui è affidata effettivamente la competenza di giudice di pace e a cui è affidato il personale amministrativo regionale è un ruolo separato per il giudice onorario di pace che debba invece essere posto sotto il diretto coordinamento del presidente del tribunale questa è una direttrice di attuazione di questo disegno di legge di delega evidentemente meno favorevole probabilmente anche per l'autonomia speciale che non godrebbe di quelle possibilità di estensione che vi citavo in precedenza incidendo anche su questi nuovi giudici onorari su cui in precedenza non c'era nessuna attribuzione regionale né diretta né indiretta e la via intermedia è quella di sfruttare in modo più ampio le possibilità lasciate dalla normativa di attuazione per coordinare l'esercizio della previsione del secondo comma della clausola di salvaguardia con la delega in materia di servizi attinenti alla giustizia che è una delega già presente e già a un certo livello di maturazione grazie dell'attenzione grazie dottor Guella è un'esposizione veramente molto chiara che ci apre sulle prospettive prossime future che insomma sono veramente da utilizzare con saggezza direi perché sono delle opportunità notevoli per la regione ultima veramente per chiusura di questa bella tavola rotonda e anche anima di questo incontro la parola alla dottoressa Elena Matteli sono veramente molto grato per quello che ha fatto in questi anni su questo argomento con la regione partendo proprio dall'inizio non dico dalla tisi di laurea nessun altro argomento ma subito dopo diciamo c'è questo impegno veramente quindicennale grazie al professor Picotti che aveva indicato la via io vi disturberò brevemente ne so siamo a fine di una mattina faticosa e non ho cose particolarmente nuove da dire quindi cercherò di non annoiarvi troppo vorrei concentrarmi sulla figura del giudice di pace perché un po' su questo avevamo pensato di costruire questa tavola rotonda e poi perché è una figura comunque che anche al di là di quello che è stato detto ieri a me piace e mi piace anche il nome di pace il termine di pace purché questi termini non siano aggiunti così semplicemente come dei termini intesi come dei termini pleonastici privi di senso nel 91 siamo arrivati l'abbiamo detto ieri ad una legge istitutiva del giudice di pace superando una serie di perplessità superando una serie di perplessità e soprattutto superando la figura che c'era prima quella di un giudice conciliatore che non sembrava adatto ad assolvere tutta una serie di richieste rispondere ad una serie di domande di giustizia che dovevano istendersi nell'ambito civile a controverse più complesse nell'ambito penale appunto per la prima volta e poi al controllo sull'erogazione non lo sottovalutiamo perché è un tema importantissimo è un lavoro che i giudici di pace svolgono in modo veramente serio ed è un lavoro impegnativo quello del controllo sull'erogazione delle sanzioni amministrative e con le prospettive di depenalizzazione è un ruolo che è destinato ad aumentare il giudice conciliatore non sembrava idoneo una figura troppo dispersa sul territorio non aveva l'adeguata preparazione giuridica si investe si crede in una nuova figura questa del giudice di pace e si supera in questo modo un lungo dibattito l'abbiamo sentito ieri soprattutto concentrato negli anni 70 in cui si era lungo riflettuto sull'accesso alla giustizia sull'azionabilità di nuovi diritti e si fa una scelta comunque particolare una scelta diversa si abbandonano le impostazioni più radicali che addirittura ipotizzavano un magistrato elettivo e appunto si pensa al giudice di pace questo nel 91 per la competenza civile prima di arrivare alla competenza penale ci vogliono molti anni ci vogliono molti anni e si devono superare una serie di passi in realtà la legge del 91 già prevedeva una competenza penale c'era una delega per la competenza penale mi piace sottolineare questa cosa perché per far capire come il tempo e il tempo che ha passato da allora possa aiutare anche le riflessioni che facciamo oggi i quei dieci anni più o meno che sono decorsi tra la legge del 91 e quella del 2000 che poi istituito la competenza del giudice pace hanno svolto un ruolo importante nel 91 quel giudice di pace in materia penale doveva essere un giudice di pace competente per pochi reati e il modello processuale ipotizzato allora era un modello estremamente semplificato l'idea era di rivolgerci di riferirsi al modello del giudizio pretorile con tutte le semplificazioni rese necessarie dalla particolare competenza di questo giudice per esempio per far capire la profonda differenza si voleva investire al massimo sui riti speciali la legge delega del 91 in materia penale è stata lasciata scadere la scelta politica è stata chiara non si è voluto esercitare la delega si è fatta una diversa valutazione perché si è ritenuto che non ci fossero i tempi adeguati per questo investimento si è fatta una scelta di gradualità e soprattutto si è capito che forse investire soltanto sulla deflazione in materia penale non era la soluzione adeguata che forse bisognava pensare a un modello diverso non solo si temeva in questo senso la dottrina ha visto con favore questa scelta di non esercitare la delega si temeva che esercitare la delega allora fosse semplicemente un modo per utilizzare il giudice di pace come il cestino in cui gettare quello che non si voleva più nella giustizia penale diciamo ordinaria era una soluzione di depenalizzazione nascosta diciamo e poi si temeva anche sul piano garantistico che quel modello non fosse troppo esposto sul piano garantistico la riforma che ha portato poi al decreto legislativo del 2000 invece parte nel 96 ed iniziativa del ministro Flick ci sono tutta una serie di passaggi che adesso non voglio sottolineare ma due punti sono importanti nel 99 prima della legge delega ci sono due riforme che cambiano completamente la prospettiva c'è una legge di depenalizzazione importante e soprattutto c'è l'introduzione a livello costituzionale dei principi del giusto processo queste due riforme che cambiano la storia e hanno cambiato anche la storia del giudice di pace in materia penale rilevano perché da un lato si capisce che quella della competenza penale del giudice di pace è una competenza penale vera e propria e non è una competenza destinata a coprire solo quei reatti che nessuno vuole più come tali quindi è una competenza penale e poi perché comunque con l'introduzione a livello costituzionale di questi principi forse sulle garanzie non si poteva così andare alla leggera e così arriviamo a questa legge del 99 una legge assiomaticamente orientata alla conciliazione l'abbiamo sentito però è anche una legge importantissima perché fa due scelte non ve lo ripeto l'abbiamo detto più volte vengono individuati dei reati particolari almeno come cuore della competenza penale del giudice di pace giudice di pace vero giudice garante sociale e poi si delinea un modello estremamente innovativo che fonde profili processuali profili sostanziali non più il carcere e puntiamo sulla conciliazione ma ci puntiamo veramente a me non piace pensare a questo modello come un modello passato un modello che non ha risposto alle aspettative la nostra esperienza in realtà regionale è un'esperienza molto positiva sul punto se ci sono altri problemi stanno eventualmente fuori non in questo modello anzi provane sia che alcuni istituti del giudice di pace sono stati già trasposti nel sistema generale o stanno per essere appunto estesi al sistema generale quindi vuol dire che il modello aveva e ha delle grandi potenzialità non è un caso che infatti la dottrina con un certo entusiasmo ha guardato questa riforma dopo che la riforma è stata introdotta e una dottrina molto sensibile mi è piaciuto qui quello che ha detto ieri il professor Cortese una dottrina molto sensibile ha anche posto l'accento su come questo nuovo ingresso del giudice penale in materia penale potesse favorire una sorta di nuova lettura dei reati si parla cioè di un giudice di pace che proprio perché ha una caratterizzazione professionale diversa da quella del giudice togato è in grado e questo nel lavoro che noi vediamo perché appunto lavoriamo sulle sentenze dei giudici di pace nel senso che le leggiamo le studiamo le massimiamo questo lo cogliamo ecco il giudice di pace è facilitato a rintracciare negli enunciati linguistici dei contenuti normativi diversi da quelli consolidati nella giudiciprudenza ordinaria è vero il giudice di pace non sempre con alcuni problemi che indubbiamente ci sono però è un giudice che un giudice laico che spesso fa riferimento alla propria esperienza di vita al senso generale di ciò che è la giustizia il che non vuol dire che sia contralegge in quello che dice tutt'altro è un altro modo di capire certi problemi e lo vediamo concretamente non solo nelle massime ma nel modo in cui vengono affrontate le problematiche appunto della definizione alternativa dei conflitti abbiamo una sensibilità completamente diversa c'è un'urgenza di ricomporre il conflitto che qui abbiamo avvertito come presente non sono solo entusiasmi ci sono problemi non lo vogliamo sottolineare in alcun modo un fatto reato conciliabile mediabile è pur sempre un reato e alla fine sullo sfondo c'è una pena non una pena detentiva però c'è una pena e questo non è mai stato sottovalutato però ciò non smentisce l'originalità della proposta e richiamare anche se erano parole di ormai 15 anni fa ciò che disse Padovani che aveva preseduto la commissione mi pare interessante c'era un rischio prima di questa riforma di vedere un diritto penale a due velocità un diritto penale che da una parte si occupava dei grandi temi e un diritto penale lasciato sullo sfondo quello fatto allora si diceva le ingiurie adesso si stanno lì per essere depenalizzate ma le ingiurie le difamazioni le minacce quei conflitti che avvelenano i rapporti di vicinato gli scontri tra consociati sono parole di Padovani raccondi e suscettibili le astiose ripiche rifratte in questa o quella fattispecie incriminatrice minore rimanevano senza risposta nel trionfo dell'oblio facendo perdere credibilità allo Stato proprio con riferimento a quella forma di giustizia che riguarda quotidianamente tutti i cittadini e alimenta un incremento esponenziale del conflitto il modello ha dei problemi aveva dei problemi perché poi i reati individuati non sono perfettamente coerenti con questo modello basti pensare al grande tema dell'immigrazione però è anche vero che anche lì con la devuta attenzione i giudici di pace hanno saputo e stanno cogliere in alcune norme delle possibili letture che sono più attente a chi? all'individuo e anche qui in qualche sentenza abbiamo colto lo sforzo che stanno facendo i giudici di pace per esempio nell'interpretare il 34 nell'interpretare la causa del giustificato motivo con un'attenzione diversa alla persona oggi arriviamo ad oggi perché appunto non voglio togliere ulteriore tempo oggi abbiamo due riforme una di cui ci stiamo occupando ora con cui concluderò e una riforma che è lì per essere conclusa quella sulla depenalizzazione e decriminalizzazione le cose rilevano perché? perché alcuni reati di competenza del giudice di pace non tutti come si pensava all'origine perché gli schemi resi noti il 17 novembre sgombrano i dubbi molti reati non saranno depenalizzati di competenza del giudice di pace cosa perderà il giudice di pace? perderà l'ingiuria perderà il dinneggiamento perderà il 627 il 647 per quanto si veda e il 726 fuori di qui un po' di reati della legislazione complementare ma non tutti e non l'immigrazione che rimane lì fin dal 10 bis quindi questa è la prospettiva che si apre quindi non una prospettiva rivoluzionaria qualcosa in meno però dall'altra parte rientrerà la competenza sotto il profilo dell'opposizione alle sanzioni amministrative per quanto riguarda le depenalizzazioni e il grande punto di domanda è quello della decriminalizzazione con quella strano illecito civile che potrà essere di competenza del giudice di pace come no tutto dipenderà naturalmente dal valore della causa con questa sanzione strana che verrà irrogata che deve essere irrogata a favore della cassa dell'ammende quindi un problema nuovo che anche i giudici di pace si troveranno ad affrontare arriviamo a questa riforma tanto attesa di cui parliamo che è in questa fase ancora di riforma per questo siamo a parlarne in chiave propositiva e non prendendola solo come un dato di fatto è una riforma che investe ancora sul giudice di pace in questo senso è assolutamente positiva sulla formazione l'abbiamo detto lo facciamo è una cosa molto utile però questa ambiguità che c'è tra le due figure che comunque sullo sfondo di questa legge si vedono da una parte appunto il giudice di pace dall'altra i magistrati onorari di pace che devono prestare il loro servizio presso gli uffici del tribunale ordinario ecco qui la differenza c'è sono due figure messe insieme abbiamo capito le esigenze ma sono comunque due figure diverse non per nulla queste direttive per esempio è vero riguarderanno solo devono riguardare esclusivamente il magistrato onorario di pace che opera in tribunale con delega è vero su specifica delega io però anch'io vedo con difficoltà la possibilità di non adempiere di non osservare quelle direttive perché c'è un problema di fondo e questo può riguardare anche il giudice di pace il problema dell'indennità in quanto le indennità vanno riconosciute dal presidente cioè meglio previo parere del presidente del tribunale che deve valutare il raggiungimento degli obiettivi cosa vuol dire valutare il breve raggiungimento degli obiettivi forse si farà chiarezza ma allo Stato è scritto proprio così e ecco allora che forse non era necessario mantenendo sullo sfondo di fatto una differenza di figure cioè quelle che operano all'interno del tribunale e quelle che sono destinate a operare presso l'ufficio a mantenere a svolgere le funzioni giurisdizionali presso l'ufficio del giudice di pace forse questo coordinamento sarebbe stato opportuno definirlo meglio forse sarebbe opportuno definirlo meglio per mantenere in capo agli uffici del giudice di pace quella autonomia che garantirebbe secondo me di raggiungere due fondamentali risultati da una parte quello di non far sembrare i giudici di pace naturalmente anche i giudici onorari in questo senso però lì c'è questa vicinanza stretta con la figura del giudice togato che mi sembra più difficile da superare però i giudici di pace che operano in un ufficio diverso con una specifica competenza sempre più ampia come dei meri subordinati o delle brutte copie dei giudici togati vincolati all'ottenimento di risultati che dovremmo capire quali sono da cui dipende l'indenità e in qualche modo la carriera perché da loro dipenderà da queste valutazioni anche la conferma e da giudici che inevitabilmente hanno altri problemi i giudici togati ben altri problemi e che quindi in qualche modo forse sottovaluterebbe non siamo sicuri ma un dubbio c'è la specificità e le esigenze di questi giudici e infine concludo cosa vuol dire essere giudici di pace ho detto che a me il termine piace purché il termine non sia il termine di pace non sia pleonastico o non venga inteso come dicevamo prima come un giudice per la pace dei giudici togati no non è questo lo diceva Chiarloni quindi non mi ha proprio di una efficace espressione che fu utilizzata in passato i giudici di pace hanno delle buone possibilità di crescita l'abbiamo visto ma forse le loro migliori possibilità sono legate da un lato appunto alla loro specificità e anche qui per quanto riguarda i tirocini per esempio se nella legge istitutiva del giudice di pace si prevedeva un corso formativo che riguardasse la gestione del conflitto le tecniche di conciliazione adesso di questi corsi nulla si dice ma si parla semplicemente di un mero tirocino e poi appunto non si vorrebbe non si vuole in questo modo sottovalutare la loro specificità che loro hanno ben capito perché quello che noi abbiamo visto lavorando con i giudici di pace è che non hanno mai sottovalutato il loro ruolo la peculiarità del loro ruolo l'importanza del loro ruolo sociale perché chiunque abbia fatto un po' abbia un po' di esperienza sa che un giudice un qualsiasi cittadino non è disposto a considerare la propria controversia quando appunto varca certe soglie come una semplice bagatella o una questione di serie B grazie grazie Elena davvero un bel intervento molto appassionato anche e che si vuole mantenere ferma appunto la peculiarità specificità del giudice di pace non solo il magistrato onorario in genere secondo me questo è un punto che forse ci deve portare una riflessione perché da un lato si c'è il legislatore delegato che dice ho l'obbligo legislativo di dare una disciplina unitaria alla magistratura onoraria però questo non deve essere appunto a discapito dell'esperienza che in questi anni effettivamente nel penale nel civile è stata molto forte e nella regione molto positiva sostanzialmente peculiare del giudice di pace che non deve sparire affatto sono d'accordo infatti credo che la distinzione di funzioni di collocazione appunto in questi due percorsi sia un punto su cui lavorare lavorare realmente cioè che vada come dire ad arricchimento della qualità ribadisco del magistrato onorario ma non a discapito della specificità del giudice di pace su questo sarei volentieri disponibile anche a dire non sono deluso dal fallimento del modello conciliativo speriamo bene sì che vada avanti però bisogna forse perché vada avanti quello in cui credevamo molto nel 2000 insomma forse crediamo un po' meno oggi però bisogna veramente che questa specificità del giudice di pace venga valorizzata con strumenti anche formativi anche di riconoscimento appunto di riconoscimento non solo della quantità di sentenze della quantità degli obiettivi in termini numerici ma della quantità di conciliazioni premiare particolarmente le conciliazioni premiare particolarmente procedimenti che non dà luogo a impugnazioni che quindi dimostrano un'effettiva come dire pacificazione del conflitto cioè trovare degli indici insomma di specificità che valorizzino il ruolo di pace non solo nell'ambito di amministrazione onoraria il ruolo deflattivo il ruolo di supporto il ruolo quantitativo diciamo che possono dare siamo arrivati in fondo a questa tavola rotonda adesso passerò la parola appunto al professor Marinelli per le conclusioni grazie grazie presidente ringrazio anche a nome dei colleghi amici Gabriele Fornasari e Derele Mattevi tutti i relatori e gli interventori a queste due mezze giornate di studio usava ieri il professor Brunelli nella sua relazione pomeridiana una bella immagine e ci diceva che non è un caso che l'idea di incontrarsi per riflettere sulla magistratura onoraria e nelle sue prospettive future a livello legislativo sia nata qui in quello che lui ha chiamato il tempio della giustizia di pace che è un'immagine che evoca il Parsifal Wagneriano quindi a me molto molto cara ma non è appunto io concordo con quanto ha detto il professor Brunelli non è non è un caso e le quanto è emerso da queste due intensissime serrate giornate mezza giornate di studio è è il quadro seguente ripeto questa è l'impressione che io ho avuto abbiamo un magistrato onorario che è sempre sentito ce l'hanno detto in molti è sempre stato sentito sia sia ieri che oggi come un magistrato in particolar modo il giudice di pace chiamato a rendere una giustizia qualitativamente diversa dal magistrato togato una giustizia che per una serie di ragioni è sentita più come il cittadino dovrebbe sentire più partecipativo più partecipativa la dottoressa Giatti ha richiamato una bellissima immagine che faceva anche Canelutti quella dell'abito del sarto Canelutti proprio quando paragonava il giudizio dell'arbitro che però è un giudicante che la parte sente più vicino perché ha partecipato un po' di più alla formazione del collegio giudicante rispetto al giudice togato faceva il paragone del vestito fatto dalla d'assarto anziché dal vestito fatto in serie quindi noi abbiamo questa situazione di partenza questo status quo cioè un giudice chiamato a rendere giustizia in modo qualitativamente diverso rispetto al magistrato togato ma dove stiamo andando dove rischiamo di andare se vediamo quello che è il progetto di legge su cui oggi abbiamo riflettuto ma se facciamo anche nostre un po' le osservazioni sollecitazioni che alcuni magistrati togati presso l'osservazione del Presidente del Tribunale di Trento fatte ieri pomeriggio hanno svolto noi andiamo verso una situazione in cui questo valore il valore qualitativo è destinato a essere a rivelarsi sempre più offuscato e invece andiamo verso una situazione che privilegia accentua in modo sempre più spiccato il profilo che pur c'è e pur va tenuto presente nella ideazione nella previsione di una magistratura onoraria di alleviamento di sgravamento del carico del magistrato togato a me spiace è un peccato che il relatore del disegnato di legge delega non abbia potuto essere qui perché avrebbe potuto far tesoro ma appunto a questo si rimedia come dirò subito di tutte quelle criticità a livello appunto interpretativo ordinamentale organizzativo che con riferimento al progetto di legge delega sono state bene evidenziate a partire dal professor Picotti che è il presidente di questa sessione che ha fatto davvero una vera e propria relazione introduttiva svolgendo appunto veramente un ottimo un ottimo lavoro individuando tutta una serie di criticità che il legislatore delegante non potrebbe non tenere presenti a mio avviso ma questo si rimedia si rimedia potremo indicare al relatore del progetto di legge l'indirizzo in cui potrà vedere in streaming i lavori gli manderemo gli atti del convegno faremo quel documento unitario che il presidente Grillo suggeriva perché la giornata di oggi è stata veramente molto interessante penso all'intervento così preciso di Gabriela Di Paolo per quanto riguarda i profili processuali penalistici all'approfondito intervento del dottor Guella che ha messo ha messo in luce quale potrebbe essere l'adeguamento o il raccordo di questa disciplina con le specificità della regione Trentino Alto Adige quello che però non ha potuto secondo me apprendere il relatore del disegno di legge non venendo qui ed è un peccato è che avrebbe potuto così per qualche giorno respirare insomma questa è una regione bilingue la stimmung l'atmosfera che si vive qui con riferimento al giudice di pace avrebbe potuto così vedere quella che è la dedizione con cui l'assessore della regione il dottor De Thomas e la dottoressa Tassinari seguono lo svolgimento della giustizia di pace avrebbe potuto vedere soprattutto lo scrupolo e il grande senso dell'importanza e della dignità della funzione giurisdizionale che hanno i giudici di pace del Trentino Alto Adige senso della dignità dell'altezza della funzione ieri Florenzano parlava di equivalenza di funzioni che per quanto mi riguarda parifica equipa pareggia ma certe volte anche supera di gran lunga il senso della dignità della funzione giurisdizionale che io ho ritrovato e ritrovo in certi magistrati di professione ecco questo è un peccato questo è un peccato che si sia che non sia qui venuto tra di noi il relatore perché avrebbe potuto respirare questo che si perde dalla lettura di atti del convegno o dalla visione in streaming dei lavori delle giornate di studio e questo lo dico perché sin dal 2002 seguo dal di dentro come si svolge qui la giustizia la giustizia di pace vi rubo ancora qualche minuto per delle considerazioni finali e andiamo quindi verso un magistrato onorario sempre più visto sì non sono immagini particolarmente talate ma sono efficaci quelle che sono emerse da queste due giornate di studio come ruota di scorta come appunto giudice panchinaro come cestino o cestone della in relazione all'attività allo sgravamento del carico del del giudice togato è però una cosa va detta in modo molto chiaro fermo e reciso a fronte di dati statistici come quelli che tutti qui hanno evocato a partire ieri dall'intervento introduttivo del presidente della corte d'appello di Trento e dottor Grillo a fronte di una prospettiva futura che vede la previsione di gravare l'80% del contenzioso sulle spalle per quanto grosse possono essere della magistratura onoraria e beh sono questi numeri sono questi dati statistici di fronte ai quali perfino Churchill che le statistiche tranne quelle che lui aveva falsificato non credeva mai starebbe buono e non avrebbe nulla da dire non si può nel far questo è inaccettabile pretendere di continuare a trattare il magistrato onorario faccio mie le osservazioni fatte dalla professoressa Pasquilli ma anche dalla professoressa Giatti non si può continuare a trattarlo come un lavoratore a cottimo ma non qualificato squalificato e da questo punto di vista la sollecitazione al governo a questo governo governo del fare è la seguente se è questo un settore in cui bisogna in modo fermo corale sollecitare un intervento dell'Unione Europea un intervento economico un intervento finanziario che venga a dar manforte è proprio quello della giustizia il discorso da fare è un discorso molto semplice proprio veramente molto molto greve se volete fronte alla prospettiva di scaricare l'80% giù di lì di quello che sarà il futuro contenzioso sulle spalle di un magistrato onorario beh ciascuno deve fare la sua parte e questa Unione Europea che spesso prolissa nelle cose facili ma è muta o laconica nelle cose difficili deve essere chiamata a fare la sua parte la si deve chiamare a fare la sua parte perché se c'è la volontà i finanziamenti si trovano e questo anche anche per in funzione di quello che sarà il futuro reclutamento dei giudici di pace se noi vogliamo dire vogliamo uso questo verbo brutto insomma brutto non elegante invogliare le giovani leve ad essere magistrati onorari non possiamo pretendere di continuare a fare così che è un po' la filosofia che ispira questo progetto di legge ti diamo la Ferrari ma non ti diamo la benzina non c'è neanche un millilitro di benzina e di fronte alla domanda è la pompa dove la trova arrangiati guardati in giro perché di fronte a te c'è il deserto grazie con leggero ritardo l'organizzatore davvero una grande bella riuscita e a voi soprattutto che avete assistito a queste due mezzo giornate speriamo che i risultati abbiano qualche effetto sul legislatore cercheremo di adoperarci al meglio tutti per fare questo documento grazie ancora e buona giornata grazie a tutti grazie a tutti